E sono in tutta la mia luminescenza Stiro giù un po' la serranda Perché non è cazzo possibile Eh, che è così luminoso Qui di dentro Ciao, beh Un oracolo, porca miseria Medega, fammi vedere Oracolo, grande oracolo Grazie, Vectorone Un bacino Domani, oltre all'intolleranza alla torsio Mi verrà pure diagnosticata quella al glutine Non esagerare Non esagerare Sei tranquillo, non esagerare Grazie, Bokrim Un pippo nell'occhio Forca miseria Ciao, belli Buongiorno a tutti quanti Benvenuti Frank, grazie Soprattutto questo tutto Soprattutto 150 pagine di cartella clinica Mamma mia, quanto Va bene, Dean Amici Oggi Non slurpate ancora Ancora non slurpate Perché io Ho giocato E ho scritto Nel mio tacquino piccolino Piccolo tacquino Ho preso gli appuntini Così Vi dico Cosa ho fatto For i live Non ho fatto nulla di Grosso Le cose grosse Le ho lasciate da fare Le facciamo adesso Perché oggi Oggi Qui sull'Elden Ringio Abbiamo da fare Abbiamo da fare Abbiamo una live lunga Non saranno le 12 ore del day one Però Giocheremo Tanto Perché abbiamo da fare Abbiamo da fare un sacco di roba Io oggi voglio andare nel castello Di grande tempesta Ma prima Dobbiamo finire L'area Dobbiamo finire l'area Più Cioè È quasi finita in realtà Quindi C'è giusto qualcosina da fare Ciao Vi tantono Liuzzi Grazie per la sub Sempre Grazie Per i 55 milioni di mesi Eh Grazie anche A Tarlo Che ci dà il buongiorno A tutti quanti Ma proprio tutti Davvero Grazie Tarlo Anche a te Allora E Cosa ho fatto io Questa mattina Facciamo questa cosa Cioè Non ho fatto questa maniera Ho fatto sabato In realtà ho giocato poco Poi ho detto Non posso più andare avanti di così Devo fermarmi E mi sono fermato Quindi Avete capito Devo bere Un goccio d'acqua Allora Vediamo di fare una cosa Allora Dov'è? Mostrati uomo Allora Innanzitutto Ho portato Le caratteristiche A livello Tale Che Posso usare Il martellone Quindi Ho portato La forza 26 Non mi ricordo Se la vita Ce l'avevo 24 Ma in caso Porto anche La vita 24 Però Abbiamo la forza 26 Così possiamo Utilizzare il martellone Anche a una mano Anche se non penso Sarà la nostra Arma definitiva Però C'è un martellone Più 3 E voilà Poi Cosa ho fatto? Apriamo la mappa Allora Sono andato a riesplorare Qui queste rovine Che ci avevano Teletrasportato Nella zona rossa Dove Ho trovato Un altro forziere Dove dentro c'era La lama gemella Che è la dual blade Dopo ve la faccio vedere Ma tanto è un'arma Che non useremo Con lui Per lo meno E Ho trovato Anche una Chiave Spada Di pietra Sempre lì Dove c'era Il rattino Sì Sempre lì Nelle rovine Ho trovato un'altra Chiave Di pietra Perché Appunto Noi c'eravamo Infilate C'eravamo Teletrasportato Subito via Poi non l'avevamo Più Esplorata Quella zona E visto Lorenzo Incredibile Grazie Zano che regala Una sub Grazie Bello Dove La chiave La chiave Sempre qui Nelle rovine Se esplorate bene C'è Un topo Che la punta C'è un drop Con la lucetta viola Quindi la vedete Grazie Pushy Poi dopo Sono andato Ho sbloccato Il falò A sud Questo qui Credo Ah sì Ho sbloccato Il falò A sud E qua di fianco In un promontorio Delle palle C'era un nemico Base Che io l'ho ucciso E POM Si è trasformato In un orso gigante Un orso enorme Che mi ha preso A schiaffoni Nella faccia E E Gli ho L'ho ucciso Però dopo L'ho ucciso E mi ha droppato Una lacrima Di larva Che è Un oggetto È questo oggetto qua No Chi è? Grazie Biotechpole Un anno Grandissimo Dov'è? Ah è qui Questa qui Che è una roba Molto importante A quanto pare Devo darla A Renala Che non so Se hai parente Sbinala Non sappiamo Grazie Zio Dante Grazie per tutte le sub Belli Poi Poi Ho ucciso Ho ucciso Il tizio PVP Nel Nel Fiume Quello Con Il pugnale Di sangue Che mi Spaccava Merda Grazie Andrenolf Siamo già 31 Sì Achille Il Chad Lauro Mi farebbe Una benedizione Per l'inizio Dell'ultimo semestre L'elezione Del tirocinio Della tese Della tese Certo Guardalo qui Come ti benedice Non è un chierico Non ti può benedire Mi spiace Andrenolf Ti benedico io Va bene Auguri Auguri Scusami E quel signore Bastardo Con il pugnale Di sangue Uccidendolo Me l'ha droppato Ma ha droppato Il pugnale Reduvia O Reduvia O quel che l'è Che è il pugnale Quello OP Che scala Su Arcanus Questo qua Che quindi Non ci interessa Però Ce l'abbiamo Questa qui È la lama Gemella Invece Dov'è Dove l'ho messa Qui è la lama gemella E vabbè Anche questa Non la utilizziamo Poi ho trovato Una grotta lì Nel fiume Che mi ero Scordato In realtà l'avevo vista Ma l'avevo passata E me ne ero scordato Ma andiamo E adesso vi dico Tutto quello Che ho fatto Non chiedete Se ho trovato Cose Con l'arma A due mani Sì Darlo Sì Sì Ho trovato Poi un'altra Capanna Queste qui Ci dobbiamo Ci dobbiamo Riandare Quindi adesso Ve le faccio Vedere Ho sbloccato Il falò Di sacroponte Ho battuto Il boss Merda Che il boss Merda È Quello Nella Crypt iniziale Sbloccando Con i due pugnali Andando in fondo Quello che faceva Cagare al cazzo L'ho L'ho ucciso Il boss Quello tutto Pianta Tutto Infetto Nella stanza Stretta così Il boss Grande così No avete capito Quel boss di merda lì L'ho battuto L'ho battuto come? Perché quando È arrivato a metà vita Si è bloccato Si è fermato Si è buggato Fermandosi E l'ho preso Ammazzate Finché non è morto Tanto era fermo Si è buggato E l'ho ucciso L'ho ucciso E mi ha droppato Un'evocazione Comunque quel boss È terrificante Purtroppo Tra l'altro Ma Cos'è No Ok Tra l'altro Mi sa che lì In quel dungeon Ho trovato un'altra Chiave di pietra Esplorando bene Favamo anche io Quel boss Era veramente Una merda di fai Fa schifo Ma che io Sono sicuro Che se lo mettevo In un ambiente grande Seria stato anche bello Ma L'hanno voluto Fare di merda Quindi Quindi non l'hai completato Ho visto cosa c'è Zio Dante Però Ho Ho chiuso il gioco E sono uscito E ho visto che la nebbia È rimasta Quindi possiamo andare a rifarlo Da zero Credo Adesso vediamo Poi alla tavola rotonda C'è la via nel mezzo Dove c'è il balcone Che si vede di sotto Che stupidamente Non ci ho fatto un cazzo io Ma si poteva saltare di sotto Semplicemente si poteva saltare La balconata Ragazzi Si può saltare In questo gioco Ho saltato Giù di sotto Giù di sotto In quell'arena Palesemente È cicciato fuori Un altro pvp E L'ho sfondato Di mazzate L'ho ucciso A merda E non mi ricordo Che cazzo Mi ha droppato Credo questa Mi pare Questa qui Che è un pugno In realtà Sono le scritte Dell'anello Del signore degli anelli Scala su fede 30 ci vuole di fede Ed è un'arma Una dual Di pugni Con questi Queste scritte Che vengono fuori Di portigli di Wolverine Mi sa che l'ho presa O me l'ha droppata lui O l'ho presa In una stanza Lì di sotto Dal tizio Devo parlare Con il tizio Quello doppio Glicciato E dobbiamo andare Da Bok Perché noi avevamo Parlato con Bok La scimmietta Quella Zitta Zitta Cacchia Cacchia Nel Nascosto Trasformato In un cespuglio Però dobbiamo Riandarci giù Dove c'erano La via Per andare Dal Templio Del drago Dobbiamo anche Riandare Che abbiamo Il cuore Del drago Quindi dobbiamo Fare giusto Qualche cosetta Questa mattina Ahia Ho sbattuto Il gineccio E poi Proseguiamo Dritti Verso il castello Gran Tempesta Oggi Prima Facciamo Concludiamo Questa zona Quindi direi Di partire Andando qua Alla caverna Acqua Fosca Perché è dove Dove ho perso Quella cosa lì Cioè dove Me l'ero persa Questa Cioè qui la caverna Quella Non si vede Una figa Non si vede Vabbè Sperando Sperando di non Aver rotto Niente Uscendo dal Gioco Così Perché non Me l'ho Non ho La caudì L'ho Tolto Non mi Vedo Neanche I lock Vai Mamma mia Questo dovrei dire Ora 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 Mentre lo faccio Ma aspettate un attimo Fatemi rimettere L'hud Avevo tolto l'hud Per fare qualche Non c'è la modalità Fotografia Su Uh Ci ha dato anche Qualche equip Non c'è La modalità foto Su Elden Ring Ora 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 Ma hai già detto che Starter Sceglie Perché proprio qua Axley Mamma mia ragazzi Che belli sono i nuovi pokemon A parte il gatto Che è veramente base E inutile Però bellissimo Allora Amici Non parleremo di pokemon Questa mattina Però Però ne parleremo Sicuramente Ma se premi Triangolo si toglie La caudì No 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 Allora Ah non era Aspetta Non era qui Vediamo se anche Achille Hai capito Che il mod Fotografia E non Dicevo Non c'è la La modalità foto Beh su Demons L'avevano messa Quelli di bluepoint Infatti potevi fare le robe Vediamo se riparte O Oh no È già qui Paccis Ragazzi Ce l'hanno infilato Pure qua Bestia Guarda che sono Pazzo di te Mamma mia Che scambio di colpi Ora 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 Niente Vabbè Ce l'ho fatta però Questa qui è una cosa fighissima Comunque Non di Paccis di per sé Ma di lui che si ferma Devo soffiarmi il pifferone Ho i dialoghi bassi però Scusate Sì Paccis è il mia zà Che è come È come Kojima Che si infila Nei suoi videogiochi È uguale Paccis sarebbe l'equivalente Quindi Tra l'altro Il muscolo di Capara Si vende un botto di soldi Veramente Comunque È fighissimo Che ti si interrompa la battaglia Tu lo puoi anche uccidere Volendo Ti dropperà probabilmente Il suo equipaggiamento Se lo uccidi ma Grazie Love God Grazie Eh sì Qui non so niente Appena si era arreso Ero uscito dal gioco Il martello volevi dire Non lo so Non sono stato Così clemente In questi tempi Ma forse Dovrei ritrovare La mia clemenza E perdonare Vediamo Ti perdono Questa volta Ma ti metto le palle Nella faccia Tarnished like you Only Free spirited Nomadic You might say Only for now Those retired soldiers Turned bandits They're paying for my gruel In exchange for my Well Showing me the ropes But honestly This looting bracket Is bloody terrifying Frankly I'm ready to wash my hands clean Maybe set up a legitimate shop So don't be a stranger I'll be ready to wheel and deal You'll come next time Quindi questa rimane La Patches Caverna Dove rimane lui Qua dentro Altro chissà Se c'è il modo Di andare Lassù Lui scende Da lassù Scende E questa qui È una vostra morte Dai Siete morti Contro Patches Ragazzi Dipende se spoiler o no Hollow Sì tanto Patches Tu sei Immune al mondo Quindi Figurati Allora Possiamo tornare all'ingresso E spoiler per una meccanica che ho trovato a caso Allora ti direi di non dirmela Lassù che urla Comunque è veramente tanto vivo il mondo Porca miseria Che roba che hanno fatto È veramente Una roba incredibile sto gioco Allora Patches Fatto Fatemi Checcare Va Fatto Allora Questo Fatto Fatto Questo Ok Ok Via 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 Dobbiamo fare Un paio di cose Allora Direi Di iniziare Con una bella Battle Visto che è notte Perché In questo ponte Delle palle qua C'è un gran bel dito Nel culo Di notte A quanto pare Quasi Per rotarlo Perché noi Ma è notte O Notte È notte È notte È notte È notte Dobbiamo andare a fare una cosa Tra l'altro amici Ho riniziato anche una run Con un samurai Su pc In realtà Ho fatto sempre Kill Laureo Ma samurai In un universo Parallelo Proprio E L'albero La sentinella albero All'inizio L'ho sfondata Eccolo The black knights Bustazzo Dai Vi è qua Vediamo Che ci prende meglio Che miseria Salti Esteticamente È fighissimo Questo comunque Porca miseria Prendo la pietra di forgiatura Intanto lì Aia Master duel Oppa E l'alai Nonna Non mi toccare Le gonadi Con la calma Facciamo prima Un po' a cavallo Non ci ho preso Oh No dove cazzo vai Dove stai andando Dove vai Non c'è più niente La Torna qui Poeso No che cazzo sei tu Ma vai via Ma chi è questo Pirla Questo ci ucciderà Eh Ve lo dico io No Ebanculo Scemo Eccolo No Mamma mia No Non ci ho preso Stavo per cadere pure di sotto Se gli vai avanti Si arrizza Non so perché Aia Quasi finito le pozze Qui Allora dietro C'è ancora portano il carro Ma in teoria non c'è niente Ok Gli manca una mazzata E' durissimo Non si sbilancia un pene Non lo fare Aia L'ha fatto L'ha rievocato Again Preso No No Solo cavallo Voglio prendere anche lui Perché ormai buttarelo giù Mimmo Pippi Stamina Dai che arrivano anche i catamarani Porca bestia Che palle che questi qui Non si stannano Però No Non ora A rompermi i coglioni tutti Preso E levati tu No 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 Non preso Preso E va Fanculo Uff A fondo ripetuto Che non ci interessa Però tutti siete arrivati A rompere Ugaz Amma mia Fatta ragazzi First try Sanno arrivati tutti Senza il biglietto Senza Ma noi Siamo il vero cavagli Oh Siamo il vero cavaliere Non so se l'avevamo usato Il live Il telescopio Facocerino Che da qui si vedeva Il cavagliero Tutta quella parte là Dove c'è il bosco E una parte dove Non Non siamo andati Perché è oltre la mappa Però dobbiamo andare A esplorare La parte è un poco più In là del ponte Dell'acquedotto Del ponte Ponte Poi Laggiù Se vedete bene Proprio il centro Dello schermo C'è Pot Ed Come si chiama Che l'ho segnato Credo Non lo so se l'ho segnato Nella mappa Ma non ci ho parlato Sì E' qua Quindi intanto Cavaliere nero Fatto Cavaliere notturno Armare 2 Ha preso Ha battuto PPP Fatto Tra l'altro Dovrei avere Anche Saltato Una grotta Da queste parti Credo Tipo qua Dobbiamo fare Anche sto Cavaliere Qua sopra Perché mi ricordo C'era una grotta Dove si prendeva Il balsamo Tra l'altro Mi sa Era qui No forse Il balsamo Era da questo qua Però c'era Qualcos'altro Grazie Sandria E' controllato bene Il carro Che trasportano I piponi Grossi In che senso L'ho controllato Bene Fermi Oh porca miseria Fermo Fermo Accucciati Perché respawn Una roba No Grazie Mi scillo Grazie per le sub Amici Tra l'altro A me sembra Un Una barra Una barra Molto grande Basta Ma io lo prendo La Lidl L'altro Lo sappiamo Anche Dove è il balsamo Perché abbiamo L'indizio Eh no L'oggetto Si che l'ho preso Allora Dicevamo Andiamo a fare Un attimo Il dungeon Lì sopra Dopo voglio Fare Voglio andare Anche Nella caverna Di Bok Che in teoria Dovremmo Trovarlo Lì Che era La scimmia Lui Ricompaiono Questi Midboss Una volta Sconfitti O no No I boss Nessuno Ricompare O i troll Intendi I troll Quelli che portano Il carro Quelli di si Sono Nei mission Normali In teoria C'era C'era Un lupo Bianco Qua è dove si trovava La lama gemella Tra l'altro Pirla Ho un martello Mamma mia Chi le odia Gli animali Ora 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 No niente Vai mi paro col martello Home Oh shit C'era un trio Un altro vaso incrinato Quindi adesso ne ho quattro Ne posso fare Di bombe Qualcuno di voi è morto Peccato non mi dice Visto che è della nostra community Io vi ricordo tra l'altro Che se volete Trovare le cose nostre La password Di gruppo È Achille Così possiamo vedere Le macchie In realtà solo le macchie Mi sa I messaggi Però adesso non ho trovato Nessun messaggio vostro Oh che shitty figure Grazie Jokers 55 mesi Iniziate a essere Veramente anziani Anche voi Inutile dire Ah sei 30 anni Anche voi Ne avete quasi 30 No No Mi sa che la password Di gruppo Funziona solo per console Sì nel senso Che non è crossplay Intendi Cioè pc Su pc Funziona Presumo O su pc Proprio non c'è Mi fa strano Non ci fosse Ciao Mary Buongiorno Eh Arianna Ma che c'entra Guarda che Pian pianino Ci arrivi eh Allora Secondo me Qui lo scudo Può essere Una buona cosa Che legno Che legno è che gli tiro Però POM Orca merda Mi è saltato addosso No Ho fatto di poco Grazie Otrebor Urla Urla sto pesce Urla Oh Oh ma l'ho fatto Ho premuto Per sbaglio Mentre facevo L'ora Ora ora Ho premuto Il grilletto destro Gli ho fatto Un altro attacco Ma che figata L'ho distrutto Demolito Comunque Un'altra vittima Giace Ai piedi di Achille Mi ha scritto Sul pisello Di una persona Boh Mi ha dato Lo stemma Del pisel No Ok Che è uno Di quelli difensivi Resistenza Al fuoco Va bene Oh E anche questo È andeto In realtà Fatto Il cosa Posso già Tipparmi via No Non era un monologo Era una Una constatazione Allora Dobbiamo andare Da Bok Andiamo da qua Che andiamo Anche verso la chiesa Ah minchia Già proprio qui così No Bok No fa male Prova così Prova Prova le mie palle Prova Prova le mie palle Dimmi Com'è adesso Eh? Non volevo 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 Parlarci Volevo Scusami Ma ho già ucciso Tutti Bok Tutti Con chi pensi Di parlare Uh è vero Che l'ago Ah ecco Perché noi avevamo Pensato a Bok Proprio per l'ago Ti metto le palle In Bok Magari mi sblocca Appunto la roba Delle armature Ma come c'è rimasto male Bene Cioè Perché sono Chad Ma un good Chad Figurati ci mancherebbe Infatti C'hai proprio la faccia Da sarto Guarda Poi Basta Su non mi da un cazzo Adesso provo a tipparmi qua E poi Vado lì Dopo Sanno qua Che dobbiamo consegnare Il cuore di drago Allora Non possiamo utilizzare Niente di tutto ciò Per carità Però Tanto non penso Ci serva D'altro Non lo so In effetti Me lo tengo Tanto non lo possiamo Usare Per ora Quindi per adesso Il cuore me lo tengo Dai No Una Medusa Ma anche qui Voglio ritornare un attimo lì Voglio vedere Se facendo passare Non c'è più Chissà se sarà dentro Però Allora qua Usciamo fuori Cazzo Dove lo ritroverò Stai zitto Pirla Mi ha dato indizi Sul dove poterlo ritrovare Perché non mi pare Ah scemo Ah scemo Assaggia il potere Del mio martello Perché quando di martelli Ne avrò due Lo sentirete ancora meglio Ma che finisce Voglio riprovare a fare Voglio riprovare a fare anche Questo è così Mamma mia Che smartellonamento C'è un altro Alla tavola Non lo so Mi sembra un pochino Forzato Trovarlo alla tavola Non ho che non è Tra l'altro A proposito della tavola La tizia Che ci abbraccia Che ci mette un debuff Bastardo Quella stronza Che si chiama Fia Lei è quella Che c'è nella cazza In iniziale Perché giustamente Mi sono andato A riguardato anche La cazza In iniziale Però lei È Fia La compagna Di morte E minchia Oltre al fatto Che c'è anche Marika Che io C'è il personaggio Più importante Del Del gioco Io l'ultima volta Mi sono chiesto Ma Marika L'abbiamo già sentito Era qualcuno di importante Vero Marika Letteralmente È la regina La regina scomparse Ormai Come metti un debuff Eh sì Se ti abbraccia Ti Da un debuff Che ti toglie Il 5% Della vita massima E per toglierlo Devi usare l'oggetto Che ti dà Che è un consumabile Ti mette dei baffi Ma io ce li ho già E che baffi ragazzi Adesso sono un po' sporchi Eh Però Tranquilli Allora Vogliamo provare Andare a fare Lo stronzone Lì Non mi sento pronto Era una bestia Andiamo da pot Pot first Capacombe mortifere Qui per Forse No Andiamo dal tizio qua Capanna del maestro In realtà Sta parte qui Dobbiamo esplorare tutto Sta Stare a quassù Quindi lì ci andiamo dopo Proviamo ad andare alla chiesa di L Voglio vedere se magari È L'Ibok No Non mi pare Non mi pare Voglio andare alla chiesa Alla Alla tavola Le birre di grazie Lo va così in grazia No Allora Dovevamo parlare Con sto scemo Che ci diceva Stare attenti A un A un marinaio Noi abbiamo incontrato Di marinaio Ah Le radici mortali L'abbiamo trovate In un danno Ma mi sarebbero fatto In live Questo Delle radici mortali Però perché le vuole Che Le radici mortali Diceva di Darle a A qualcuno Che però Non era lui Le mostriamo e basta Forse Minchia Devo divent Sono Io sono Quello che deve Diventare forte Come una belva Ah ecco Ma lo presenta Lui Giustamente Va bene Fighissime ste robe Voglio vedere assolutamente Cazzi Fighissime Ma questi segnalini qui Sono per caso Le lastre Dove trovo Le mappe Perché mi viene Il dubbio Di sì Perché qua Non lo posso vedere Adesso Noi l'avevamo trovata Qua Però non c'è niente Perché c'è il segnalino Sì ok E immaginavo Quindi se voglio sbloccare La mappa Devo andare in quei punti lì Cosa che non voglio fare Finché non ho finito Di esplorare Tutto qua Allora Qua abbiamo fatto Tra l'altro Un'altra cosa Il merda qui Lui è Ofnir Lui è Ofnir È quello E guarda infatti Che è tutto pieno Di orecchie Guarda anche C'ha l'armatura Fatta di orecchie È sempre Nella cazza in iniziale Lui è quello Nella bara Ricoperto Di orecchie Sì Fabio Devi È questo Sono tutti qua Cioè questo qui Non so chi è Spero non sia Il mangiamerda Questo Perché c'era anche lui Il mangiamerda No lui è È amico di Bruno Bucciarati Semplicemente Della sua scuola Dicevo L'altra volta Non siamo andati qui Qua Che semplicemente Bastava fare letteralmente Questo Per combattere Contro Uno pvp Qua E qua di fianco Ci abbiamo trovato Qui forse Avevo trovato Il pugno Quello In fede A me Quel cavaliere Seduto alla tavola Non è arrivato Qua l'abbiamo trovato Un'arma Che cavaliere Seduto alla tavola Lui? Ma lui da me C'era all'inizio Proseguiamo Per proseguire Andiamo alla capanna Del maestro guerriero Che devo ancora parlarci Grazie Fabione Per Morelli E per la figa Beh sono contento E qua Siamo Abbiamo fatto tutto Con Questo qui Dobbiamo andare solo da Sigmarov Katarina Che non è A differenza di Patches Però qua c'è lui Maestro guerriero Con una Zweiander Credo Ma io sono di più Il cimento Il cimento Forse è il cimento Che ha la nostra Aureicità La mia fede Incrollabile Ma io sono un martellatore Grazie Divine Surrender C'è il cimento A un buon e proprio Tarnished Come tu Usabile su pugnali Spadecule Uh il perri da mettere Dove cazzo ti pare Questo cos'è Su scudi e torce Cenere di guerra Nessuna abilità C'è per togliere Lama tempesta Questa c'era nel CNT Mi pare Usabile su spade Eh ma mi venderà Tutte le robe Per le spade Sugli armamenti Da misca Questo è la Schivata Impalamento Era fighissimo Però ci vuole L'arma perforante Spade e asce Armamenti Intastati Inastati Anellasta Taglio rotante Grido di guerra No tenacia Ce l'ho Calcio Cazzo Calcio Montante Usabile su spade Asce e martelli Non c'è niente Che mi intriga troppo Più che altro Per il martello Se la togli Puoi utilizzare L'abilità Nella mano destra Sì Justin Però per gli scudi E le torce Per ora Non ci interessa Niente Però molto gentile Non è abbastanza Slurpi qui Perché non c'era Niente di slurpabile A posto Non ti preoccupare Bro Allora In realtà In realtà qui Posso andare dritto Per andare Dall'uomo Potti Da Isabella Potì Possiamo andare Di qua Raccogliamo la merda Ottima merda Ragazzi Uh qua c'è un accampamento Facciamolo proprio Brutto Brutto Cane Merkel Questo è quello Rosso Oh Ma hai fatto cadere Il cavallo Buco del culo Oh Pirla merda Ostia Però lì c'è uno Grosso Aspetta Ma questo L'avevo fatto Non mi guardare Sento un troll Da qualche parte Anche Dove prenderli Tutti e due Invece no Come smartello Però Peccato però Perché Porca bestia E qua A te Ti faccio Mamma mia Come sto Scemo Non mi ricordo se l'ho già fatto Mi sa l'ho già fatto Questo accampamentino For alive E non l'ho segnato Perché mi ricordo Il posto E lancia Kist Pugnale Tabarro Che è un tabarro C'è una sega Non c'è neanche Lo scrigno aperto Era di qua Era Ma che mira hai Stormtrooper Ah si Vedi C'è lo scrigno aperto lì Quindi l'ho già fatto E quello delle giostre Che ascolta la musica È un tabarro C'è un Cazzo Però devo passare Da qua Io Per andare Da Isabella Potì Il time Delo rimane La cosa più strana Di tutto il gioco Ma è semplicemente Diverso È Semplicemente Diverso Non è impossibile Come su Dark Souls 2 Però non perlomeno Ah qui È l'area Quella Con 7000 Caffè Farlo Kenshiro Potete smettere Di fare Effusioni Sessuali In pubblico Denunciabili C'è un polpo di terra Eccolo là Piccione Pirla Dammi le tue piume Zamp Help me I'm stuck Step bro I'm stuck Iron Fist Tournament Come Tekken Porre Posso Poi Aiuto Mi Aiuto Grazie 1000 Grazie Solo Dami Un buon Smapp Da La Rilla Con qualcosa Devo Darglielo Forte Da Dietro Con qualcosa Di grosso E pesante Che parla che non si può togliere l'arma però Posso fare E niente Preparati Alexander Perché stai Per sentire La virilità L'uomo Sta per Destaccarti Lo so Ti ho fatto male Ma non ti preoccupare Ci rifaremo Ah Eh lo so Scusami Troppo Troppo L'audio dei dialoghi è sempre basso Grazie 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 Mi ha dato una mano vuota Mi ha dato una mano vuota Mi ha dato una mano vuota Pensa che bello Se si stappava Prendeva da dentro la carne E me la dava Va bene Adesso che fai Tu Tu Proprio tu Dico Che fai Eh Il vaso guerriero noto come Alexander Pugno di ferro L'arte della guerra Oltre a questa terra si estende la rossa e marcescente Kylid Dove siamo stati noi già Si erge il castello Manto Rosso Teatro di una celebre festa del combattimento a sud Perché noi partiamo da nord E lui comunque vuole combattere Poi è rimasto staccato Come cazzo c'è rimasto E diretto a est Ah ma a sud A sud di Kylid Quindi Qua Presumo Cioè Kylid è questo Ok E anche questa è andata Qua si va per il ponte Che porta A destra Ora io vorrei Esplorare Questa parte sopra Qua Questa parte sopra Per poi Altro qua c'è anche un ponte Che va su qua Però quello lì non ci andiamo Per poi andare A gran tempesta In realtà vorrei provare Anche un'altra volta Qui sto boss Partiamo da qui Sento uno scarabbeo Ma è uno scarabbeo Di pozioni Uno scarabbeo Cremisi Fagli un massaggio erotico Certo Grazie Antonello Beh la smartellata Che gli ho dato Nella schiena Potrebbe essere Un massaggio erotico Lei come cazzo Si chiamava? No non ancora Era Le Non mi ricordo Come cazzo Si chiamava Allora Passiamo da qua E andiamo sotto Il ponte Che tra l'altro Allora Questo qua Dove c'era anche Il maestro Di pezels Dovrebbe essere Il tetrobosco Quello lì Quindi dovremmo Trovarci il balsamo Perché Se no ragazzi I nostri capelli Chi li mantiene? Dai su Un po' di serietà Scusa C'è un cazzo Di castello Qui? Ah ma è questo qua È proprio Ma aspetta Ma giù Si può andare Ma non Saltando Così si schioppa Aspetta Fatemi rileggere Il messaggio Nella Alagno Grazie Cacchio Già 19 Un saluto Grazie Sì Già 19 Sono tantissimi Ragazzi Mi raccomando Chi deve rinnovare La sub Se ricorda di rinnovarlo Mi mando un bacino Bene Allora Nella terza chiesa di Marica A nord di tetrobosco C'è un'ampolla Di balsamo portentoso Attraversa il ponte Sulla strada maestra E segui Il ponte Sulla strada maestra E segui La mulattiera nord Grazie Giù malei E attraversa il ponte Dice però Però prosegui a nord Perché tetrobosco È questo Quindi qua A nord di tetrobosco È questa E segui la mulattiera Che sarà la strada di terra Questa qua A questo punto Dopo ci andiamo A dare un'occhiata Perché il balsamo Mi è sceso da solo Da cavallo Eh Quindi qui Vuol dire Che ci sarà Ecco Un'evocazione Che mazza grande Che mazza grande Che hai Enricus Beccatosta Che dolore Ma non abbastanza Tiè Ciao gattone Pum Ora 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 Muerto Ben arrivati ragazzi Abbiamo appena ucciso Enricus E ci ha dato il talismano Martello Talismano Martello Cos'è il talismano Martello Scusami Potenza di attacchi Che riducono il vigore Di chi blocca No Aspetta però Eh povero Erio Do un occhio Subito Gatto Forse C'ho troppo Gain Da Da OBS Sai Infatti Ce l'avevo a 6 Non so perché Proviamo così Piuttosto alzo Un pochino qua Dicevo A parte che potrebbe essere Anche la mia voce normale Ma Ma Eh vuol dire che Squilibri più facilmente I nemici Ma solo quando Parano O proprio Li posso Togliere L'equilibrio Quindi Fargli poi Il repost Dici gatto Noi adesso Stiamo concludendo Le ultime cose Poi vado nel Nel castello Di Gran Tempesta Stamattina Dobbiamo finire Giusto Quest'area qua I martelli Sono particolarmente Efficaci Contro i nemici Equipaggiati Di scudo Al punto di essere Stati rubati Nella stazione Di eroi Eh ma Solo verso Lo scudo Non mi interessa Solo verso Lo scudo Però Perché già Li sfondo Se hanno Lo scudo Un fantomatico Fantasma Ma è lui? No non è lui Ambivo Solo a combattere Combattere come un Guerriero Fino allo Stremo Perché dunque Perché guida Dalla Guida della Grazia Questa porta È sbarrata Sono fighissimi Anche sti spettri Così comunque Ah il Il segno Per invadere Questo Sembra tanto Un colosseo In effetti Un'arena Tipo Ok Ditto torto Il duellante Quindi il segno Rosso Per mettere Il simbolo A terra E per invadere Anche Ma proprio Non da Non si può Proprio aprire Cos'è quel Cosa sono questi Rami Di gomma Scusatemi Però eh Ah ecco Ecco che Sponano Le cose Sì ma è di gomma Però questo albero Scusate Tipo la roba Di Olassil Dici Potrebbe essere Più avanti Esca Bastardi Dai Amici Anche quelli Che vengono da gatto Se volete Condividere Le community Con E giocate Dal playstation 5 Non so se qualcuno Gioca dal playstation 5 La password Di gruppo E Achille Così possiamo vedere Tutti i messaggi Messi a terra E i E le chiazze Di morte Messe a terra Condivise Tra noi Che abbia la stessa password Dai Dai Eh ma adesso Non ci credo più Qua giù Meglio di no Facciamo un giro Di tutto L'edificio Poi Andiamo avanti A maiuscola Nome proprio Achille Laureo Tra l'altro Veramente amici Sono morto Da ridere L'ultima volta Uh vero Che ho combattuto Anche uno di questi Ce n'era uno Che si risvegliava Molto indebolito Non so se Responde L'ho ucciso Dopo vi faccio Vedere dove Tanto ci andiamo Mi hanno fatto notare Che E' Achille Laureo Con i capelli Di Bruno Bucciarati Di Jojo Vento Aureo E si oro che L'ha rinominato Mento Aureo Quindi Zona Onyx Esatto A proposito Di Pokémon Nuovi La nuova gen L'ha presentata Elder Ring Uh Dici Super segreto Ragazzi Guardate come Ci vado a morire Come un pirla L'avevo detto Vedo desincanto Il mio problema Prova a giornare Bigfoot Prova a giornare Io mantengo La parola Ragazzi Non è che parlo Così Per parler Tra l'altro amici Tra pochino Facciamo anche La pausa pranzo Perché Il programma Di queste Mattine E Fare live Belle e lunghe Un Cinque orette Di live Al giorno Probabilmente Ragazzi E Sarà tosta Per me Non per voi Che guardate Per me E non perché Sarà tosta Reggere cinque ore Ma sarà tosta Perché Devo reggere Le altre Senza giocare Grazie Alex E io se a voi Fa solo che piacere Sono stracontento Vi giuro C'ho un'ansia Che sta serie Vada di merda Perché Può anche stancare Però Spero Spero vada bene Spero Non saremmo certo Noi a lamentarci Mi fate contentissimo Se dite queste cose Veramente Ma vi giuro Io sto vivendo Con un'ansia Sto periodo Con l'ansia Che Vada Tutto di merda Da un momento All'altro Si rompono tutti i coglioni Di seguirla Sta serie Che mi fa Veramente Tanto piacere Se mi dite Così Lo sapevo io Oh Grasso soporifero Ma sta a sentire No non mi cagare il cazzo Sei un pippone Vai via Darci col cavallo È da stronzi Per carità Però Allora Io scenderei Lui vuole Seguirmi Va bene Oh manovrare il cavallo Comunque È terrificante Oh qua c'è uno Di voi che è muerto Ma guarda Anche io Mi sono Recuperato Un po' Di life Da gatto Mi sono Recuperato Un po' Da sabacu Perché comunque È bello Sia vederlo Da sabacu Che sta a guardare Tutta La lore Cerca di stare attento A tutte le cose Sia da chi invece Lo gioca Per giocare Perché comunque È uno di quei giochi Che puoi giocare Te lo godi tantissimo Anche se non ti metti A leggere ogni singola cosa E tutto Allora Andiamo giù qua Cioè È godibile In talmente Tanti modi diversi Poi ognuno Fa una run Praticamente diversa Io l'urco Pesante bene Ci sono sempre Grazie Grazie anche Jackson Bandit Per la Siub E stai zitto Pirla E basta Cosa urlate Oh quanti siete Qui c'è solo Da fare una cosa Ora 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 Che il pielo Questa mossa è fighissima Comunque da fare così Un falchion S'ha droppato Godis Non per noi Però io voglio due martelli Voglio Il nostro Il nostro obiettivo Sarà fare il dual wield Guarda quello là Quanto si rialza Boh Non ve l'ho fatto vedere Dall'altra parte Ve lo faccio vedere qua Alzati Alzati e cammina Fare sta scansione In solitario Mi sarei tagliato Le vede Eh beh Vin Sono contentissimo Dai L'ho spaccato a merda Comunque Nemmeno si è alzato Contro il potere Del mento aureo Oramai spento Ma ritroveremo La sua luce Ritroveremo La luce La luce Del mento Ah che bellini Grazie Altre armi sono più fighe in due Eh vediamo Allora tra l'altro Io ho trovato anche Il randellone Solo che non so Allora il problema del martello In realtà È che ha un range Cortissimo Però ho trovato anche il randellone Che Che non è male più che altro Ha un range più lungo Il martello Il martello si è un'arma nuova Tra l'altro Che non c'era nei souls E tra l'altro Non ci ho pensato subito Cosa mi dà questo? Talismano Lancia da giostra Mi potenzia gli attacchi a cavallo? Potenzia gli attacchi a cavallo Un tempo i cavalieri dell'interregno Caricavano a cavallo Con le lance In resta Traffiggendo chiunque Giustamente con le lance Potrei fare Le figate A cavallo Dicevo Non me ne ero neanche accorto Quando l'ho preso il martello Ho detto Ma figurati se non c'era il martello Su Dark souls E no Effettivamente un'arma nuova Come un'arma nuova Anche il Il frullino Firi 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 Qua abbiamo fatto Anche se comunque Le armi a destrezza Ragazzi Cioè Ho detto Ho iniziato una run Su PC Con il samurai Ed è molto figo Il samurai Teschetto Grazie Come buono Grazie Simo Quante ne hai regalate Di Siub Grazie Boom Fare l'attacco in salto Da cavallo È molto figo Tipo lungo Ops Laggiù c'è Ah è vero che c'è un testa di zucca Là sotto Tra l'altro Run aurea 3 Allora Cosa c'è Cosa c'è laggiù Un fantasma Uno Spectro Ah ma l'ho fatto Qui Questo qui l'ho fatto In live Sto dungeon L'ho fatto Soprattutto Catacombe mortifere Inconcepibile Il nostro saccologo di riposo È stato violato Rifiutare l'appello Dell'albero madre Vivere nella morte Disgustoso Stai zitto Stai rompi Coglioni Sì era quello Con l'entrata Subito Ma forse Qua è dove Ci avevamo trovato Il seme Il seme di semi Allora qui togliamo Il bollino Che abbiamo fatto Testa di culo Andiamo a saccarponte A battere Il testa di zucca E poi andiamo a fare No il galadettore Era da un'altra parte Però c'era Qualcun altro L'abbiamo fatto In fare il live Comunque quello lì Ma Fammi usare Queste un attimo Queste anime Dove c'era la tizia Già ferita Vero Chissà Io vorrei portare La forza A 30 A 30 E poi stop Perché potremmo fare Anche una build quality Eh Non ce lo nega nessuno Facciamo 25 In vitalità Per adesso Questo cos'è Bestia ma sei pirla Bustazza Cacca Tra l'altro Oh pietra Ciao bella Ciao bella Ciao bella Ciao bella Ciao 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 bella Ciao bella Ciao bella Ciao bella Oh scusa L'ho disturbato Ciao bro Marco Certo Acquista Cosa vendi Amore mio Un collo smerdone Un'ampolla Coppa di tartanio Freccia d'osso avvelenata Roba avvelenate Ok Spada corta Non ci interessa Alabarda Com'è? D&D BBB Doppia Alabarda Ragazzi Ne vende solo una In realtà Quindi Allora dobbiamo prendere Sicuramente questo Dai L'ampolla Io la prenderei Comunque Perché queste qui Sono riutilizzabili Messaggio contenente Carri di fuoco Alabarda Sembra brutta Però Carica in avanti Che mi sembra Più da destrezza Che da Anche se Scala D&D Boh Come sei in inglese No no Figurati Vuole vedere se parlava Fammi vedere il muschio Quello che dice Vec Allora la merda Non ho Non da un cazzo Non è vero Dieci Si vende Fa schifo Fa Vector Mi hai mentito Brillantemente Po Che risata Che risata è Che era una risata Allora Dobbiamo andare a nord Qua ragazzi Io vorrei Quel balsamo Allora Andiamo Con la main quest Abbiamo battuto Margit Punto Abbiamo battuto Margit E adesso Ho finito di esplorare Qua sopra Andiamo Avanti Nel castello Di gran tempesta Ok Dice di Passare Questo ponte Qua Qua sotto C'è Dove Eravamo C'è il Colosseo Là Che schifezza Sei Cosa No Questa è una truffatrice Legge manco le mani Legge le dita Lei Adesso te lo spiego Silver Ma Reia Lucaria Quindi è un posto Non è una persona Scusa Ricky Non volevo Un po' di Sardegna C'è in questa signora Però eh Mi ruba gli anelli Come Little John Non era Little John Che rubava gli anelli Poi Era Little John Che rubava gli anelli Al Re Su Robin Hood Era Robin Era Ma di nuovo E ricomponi le mezzelune Per fortuna perché non l'avevo letto bene Al grande montacarichi Oh ma il ponte è crollato E nessuno può attraversarlo No non me lo dire Perché dovrebbe importarsi Il castello di Gran Tempesta Resiste Le mezzelune Sono quelle Sono queste qui Che tra l'altro L'ho comprata Quella dalla tizia Alla tavola rotonda Le mezzelune Dell'anello Era Little Tony Che gli rubava gli anelli Ah beh Quindi qui Ce la prendiamo Direttamente Nel buco del sedere Ricettario Ostia Però E Quindi Sedario del Nomade 7 Cotone morbido Boli tampone Freccia di pietra arcobaleno Ostia Puoi fare le frecce Anche con le pietre arcobaleno Invece di usarle solo come Cazzo di segnalino Dimmi che allora qua Semplicemente c'è un Dungeon dove trovo il Qui c'è un sacco di morte però Sento anche del lucicare E quello è uno scarabobbo No vieni qui Dammi un'abilità Cenere di guerra Muro tempestoso Con lo scudo Però c'ho Cioè come fai senza Perry In un Souls Oh ma che Figura di pene Chi Cioè stai dando Che figura di pene A lui Eh Guarda senza Il balsamo Che gli si Gli stanno andando via Un po' col vento i capelli No Dobbiamo assolutamente Trovare il balsamo Ragazzi Hop 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 Esploriamo bene ogni Anfratto Ogni buco Ogni pertugio Non qui Scusami Grazie Renatoba Allora Quasi Accenderei la torcia Bellissimo L'effetto della torcia Va sotto Semplicemente Dove c'era lo scarafaggio Che bello C'è un botto di fauna Ragazzi Ma Hanno fatto una roba incredibile Con sto gioco Io continuo a dirlo Il giorno che lo ottimizzeranno Ben bene Perché su pc Anche la grafica È molto meglio Molto più nitida Molto tutto Sarà Il gioco Il gioco Sarà Ragazzi Perché mi fate queste cose Miyazaki Perché mi fai fare questo Poi io cado Muoio Stai fermo Stai fermo Buono Buono Però c'è Stuttering No dico appunto Quando sistemeranno Quello Su pc Sarà il gioco Purtroppo Fosse mai uscito Un souls decente Su pc Al day one Perché devo fare queste cose Che sono un pirla Chissà che magari Entro nel castello Da un altro punto Guarda che figo No basta Questa nebbia Fatemi vedere In lontananza Per favore Lo voglio vedere Lo voglio E mi sa che me lo prendo A Natale Come a Natale Ma fino a Natale Dei liupi Zup Fermo La miseria Passa Van Powell Non ci ho preso Non vedo Pirla 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 Oh streghetta Pirla Oh Un pezzo di carne Un pezzo di cane Forse dovremmo dire In questa circostanza Troppa nebbia In giro Ok Non ho tutta sta fretta Beh ci sta Enricchi Io si Però c'è da dire Che Giocandolo in live Mi perdo Il scambiarmi pareri Con gli amici E tutta questa cosa qui Però spesso Eran cose che mi mettevano fretta Nel giocarlo Giocarlo in live Me lo sto godendo tantissimo Nonostante Il fatto che sia In live L'urnia lacustre Ah però minchia Sono Sono riuscito Ad arrivare oltre Eh mi sa che il drop Non lo prendo Porca bestia Quanto tolgono Però loro eh Come non ci ho preso Per favore E tak Uff Ma minchia chi Ah scusa Mitarlo Va bene I alberi ballano Sì Live muta Da adesso in poi Ragazzi Quando lo scappo So meglio guardare Chi sa giocare Dovevo spiegare Scusa Dovevo spiegare Che era Silver Che aveva spiegato Aveva chiesto prima Cosa sono le lettere Nelle armi Lo spiego Non parlo Non parlo per favore Non ti parlo mai più Cosa sono Le lettere Vedete Forza B Vuol dire Che questo martello Per esempio È A Come attacco fisico Come potenza attacco 141 Di attacco base Che fa il martello Più 82 Quel più 82 È variabile L'82 Dipende da La lettera Su Proporzionalità attributi Essendo B Un valore abbastanza altro Vanno da S A E E è il valore più basso S è il valore più alto Più il valore alto Della lettera Più acquista un bonus Cioè più Il più 82 Sarebbe più alto In base alle caratteristiche Che hai Quindi Io ho 26 a forza 26 a forza Mi dà Più 82 Non so se mi sono spiegato bene B E E E lo scaling Più è alto Più prende bonus dalle caratteristiche In sostanza Se un'arma Tipo questo arco Ha Forza E Destrezza E È uno scaling di merda Però Infatti Come attacco Ha solo più 7 Che è nulla Praticamente Però prende sia Da destrezza Che da forza È un moltiplicatore Quindi Più che guardare Semplicemente L'attacco fisico Dell'arma Bisogna guardare Anche Lo scaling Allora Abbiamo Preso qui Laggiù c'è un cimiterazzo Questa è un'area Concludibile No Qua è tutto grande Qua si trova la mappa Ma io qui direi Sperando di trovare il balsamo Lì dentro Di andare semplicemente qua L'ho perso Dov'è l'entrata Bocciolino cristallino Biri 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 Ah no Bocciolo Scusami Bocciolo cristallino Non era bocciolino Castello gran tempesta Dimmi che posso Posso farlo da qui Madonna Come sei piegato male Vergine Vergine adorata Dove sei Tieni Prendi le mie uve No Gli stava mostrando le palle Ragazzi Uva di Shabriri No Ma Shabriri è Lui era un dono iniziale Ti dava il teschio di Shabriri Quello che era il teschio esca Ma cosa ci faccio con le sue palle Scusatemi Burbo oculare ingiallito E gocciolante Di un infermo E grullante E grondante di umori La superficie avvizzita Mentre l'interno è vicino Come un'enorme bacca Sul punto di marcire Consegno alla giovane cieca Per guidarla Verso la luce distante No Una cieca anche qui Che schifo però Ma perché devo Toccare tutto Con le mie mani di merda C'è solo Shabriri C'era una scala No non era testi questo Non era neanche slurpy Era una merda era Non abbiamo trovato niente di slurpy Questa mattina Guardate che lavoro Veramente posso entrare nel castello da qua Io ci sto credendo Non mi sono riposato Alla Alla grazia Sembra un posto molto importante Allora Quello quindi è Godwin Godric No Godric È quello Con il leone C'ha il leone dietro Ah posso andarci anch'io Che culone Che eri Evviva ho fallito Come evviva ho fallito Ragazzi ho paura Di essere entrato Da di qua io Però queste sono le magie dell'esploro Guarda qui Perché non posso attaccare? Non posso attaccare qua dentro Come nella tavola rotondola Non posso attaccare Il momento di anello Ancestrali Eh devo arrivarci dall'altro lato qui Quindi dai Ci dovrà per forza essere Qualcosa da fare Se ci arrivi Prima Peccato per le stesse scritte Di merda Si potessero disattivare I messaggi Non della tua community Guarda E niente Eh questo qui Come è morto In effetti Secondo me si è ammazzato Col segno Di Gristofero O un infarto Boh Già da qui Non si possono usare le armi Da qui si Boh Allora direi Tanto qui l'abbiamo sbloccato Il Il falò Fatemi pensare Andiamo a provare a fare questo boss qui E poi Si va dritti dentro Il castello Tanto quali altri boss avevamo saltato Mi sa solo lui è rimasto Gli altri li avevamo tutti distrutti Demoliti Boy Ma cosa ululate Pirla Quindi anche il gigantone credo respawni Ma chi è una giovane cieca Ancora non l'abbiamo beccata Una cieca Mi pare Allora andiamo qua Non volevo scendere dal cavallo Ma vabbè E lo so che Sono andato Troppo Scusami Lo so che lui è difficile Difficile Allora tanto spawna sempre qui lui Pasca bestia Porca merda Non l'affondo Che dolore l'affondo Che fa Fa male male Vediamo Vediamo Deve essere la prima Questa Devo capire Devo studiarmelo Bello l'elmo Lui si è visto anche in un In uno dei Vari Artwork di caricamento Non so chi sia Prendiamo le nostre animelle Vai di Perry Proviamo Proviamo a farlo qualche Perry Dubito Perché non è facile Allora La prima martellata Va così però Massimo 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 No 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 non facciamo i Perry Che Perry è un'altra persona Non va fatta adesso Cavaliere si chiama Enzo No ti sbagli Questo cavaliere non si chiama purtroppo Non ha mai avuto questa abitudine di chiamarsi Però gli altri lo chiamano Enzo Maledetto Il pestone Quanto carichi questa merda Ma c'hai una punta nel Nel coso Non farlo Aia che affondo di merda Devo trovare delle finestre più No Perché bevo Che fa quella merda di Di affondolo Seppara pure con lo scudolo Aia Eh ma dubito Che glielo sfondo Quello scudo Anche col talismano Del martello E che porca vacca Non so quando attaccare Perché allora E' vero che è un'arma lenta Io eh Devo capire bene Qual è la finestra giusta Per attaccarlo Per le finestre consiglio Il mio unico franco Che ti sistema Gli infissi E gli monta i doppi vetri Ma gli infissi Li fa di legno O di alluminio Perché c'è differenza E' vero che c'è E' vero che c'è E' vero che c'è E' vero che c'è Bevo No non lo fare Aia E lo so Che lo fai adesso No adesso lo sapevo Che lo facesti E invece T'ho fatto lo stesso Il booster Booster naturalmente E' l'attacco affondevole Io bevo doppio Pippo Quello mi sembrava Un buon perri Ma invece Ah ho finito Porca bestia Voglio fare Il perri al pestone Pestami La pancia E poi in realtà Cioè se lo attacco Se lo combatto normale C'è più probabilità Che lo fa Cioè però volevo Provare a fare Sti cazzo di perri E tanto so Che c'è una fase 2 Che poi mi incula Antonio Si può perriare tutto Si può perriare tutto Questo non ci prendo Si è un infame Merda buco di culo Te l'avevo schivata Ah Che stronzo Eh ho un'armatura Da uomo Quello che Mi frega Porca miseria E che ha un po' Di chadness Vedi 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 Avete visto Avete visto E qui E qui E qui E lui E lui Questo qui Col samurai Lo spacco subito Grazie Arancio Cosimo E ben Ritornato Grazie Della Eterna fiducia Oppela Lai Che cazzo Non so il tempismo Della seconda Ustia miseria Scusate Non so il tempismo Della seconda Sferzata Mi ha punito molto Sì Mi ha detto Ah In punizione Non Non si schiva così Adesso Una settimana Senza Televisione No Mi ha punito Adesso ci penso io Questa è quella buona Watson Fa un culo Come fa Sì ma Non c'è neanche schivare Di gomma L'affondo E una finestra Schivargli l'affondo E una finestra Eh ma se non ci colgo Questo non La scudata Non è una finestra Perché lui attacca Subito dopo Questo era una cazzata Non so come Non sono morto Grazie Lunanico Devo curarmi Lasciami stare No Perché Sono pezzo Sono proprio pezzo Non è modo di parliarlo Non si perdi un cazzo Questo Ci ho provato Ho fatto anche dei perri buoni Ma non Le evocazioni Le evocazioni Posso usare Non posso usarle Mi sa nella galera Sapete Non le posso proprio usare Eh nella galera Ti mettono i ferri Non puoi Non puoi Pazzo Evocare Ma non vi preoccupate Extreme Chadness Attacco Della mestizia Fa un culizzati Buco del culo Fammi l'affondo Ti sembra un affondo Quello Questo lo è E io non ti prendo Perché sono Pippo Inzaghi Vai vai Ah era un po' Che non mi facevi cagare Non mi facevi cagare Mi ha fatto Mi ha fatto Sto vigliacco Metti giù lo scudo Ti faccio vedere io Come si gioca Devo ritrovarla Devo ritrovare la luce Non posso andare avanti Così Un nemico Incarcerato Giustamente Credo Non può farmi Questo Mai Devo dimostrargli Chi sono veramente Ora ci siamo Fallo 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 Porca bestia Porca bestia Porca miseria Se gli sto vicino Mi fa quella Stronza lì No Ho titubato Ho titubato Ho titubato Se ti potessi fare I backstabo Ma te sei un testa Di sanzio Ancora No Devo rollare Da lui E che non si Staggerà Per un niento Tento le pozze Aia E basta Non ho la vita Non ho la vita Ho fatto uno sbaglio Vedo del miglioramento Però E col martello È dura Perché sono lento Porca miseria Ogni Attacco che faccio Devo essere perfetto Perché appena finisce L'attacco Devo subito Schivare Quindi è difficile Ma il randello lungo Il randello lungo Tra l'altro È anche un pochino Più veloce Però fa meno danno Caspita ragazzi Un nemico Ho perso il target Non so cosa ho fatto Dai Affondami Non è questo Un affondo Ops Sei un merda Sbaglio Sono Fausto Fausto leale Un sasso Mi fa Male Eh no Sei uno stronzo però Doppio affondamento Guarda che stronzo No Non mi ha saltato Devo saltare Per fargli l'attacco Pene Ci siamo eh Ci siamo Ci siamo Non vi preoccupate Io proverei un try Con il randello No No Non so il moveset Del randello Cioè Non Non sono abituato Al moveset del randello Né nulla Cioè sarebbe un azzardo E poi non è potenziato Non è nulla Che ho trovato un po' di materiale In realtà eh Perché il randello Non mi dispiace come arma E che spero di trovarne Di nuove E più belle A strunzo Ah però No Ho perso tutto Tutta l'abilità Di miglioratura L'ho persa Ci siamo eh Però non importa Non importa niente Ultimo try eh Ultimo try Poi si entra Si entra nel castello Poi si mangio Poi si entra nel castello Vai di scudo Ma mi sdru Proviamo di perri Vai Allora prima L'attacco Terentorio No mi scorreggia l'audio No devo farlo con l'audio scorreggione Ragazzi Aia Jace Grazie Premo un attimo L'applicativo Atto a catturare La playstation schermo Grazie Jace 65 mesi Ma minchia E che Ho notato solo io Che Si toglie veramente Un cazzo Di critico Mi ha distratto l'audio Chiaramente Mi ha fatto fare un perri Ma mi ha distratto l'audio E che non Si toglie un cazzo Con i repost Provo un'altra cosa Non è vero Che figura Fallo Che vuol dire pene Che vuol dire pene Dai ma questi sono dei perri signorili Proprio E non avevo la stamina Finali Hopperalai Fanculo Ma all'indietro l'ho fatto il perri Sei pazzo Achille Che fai Quanta Chadness Versa girarti di spalle Al nemico Oh 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 Si Sono morto Basta Basta Proviamo poi In un altro tempo Non è vero Quantum Assolutamente Non è vero Che tutorial Neanche per Ma stai zitto Quantum Che cazzo dici Che ho fatto i culi così Margit Gli ho fatto un mazzo Che si è messo a piangere Alla fine Quando l'ho sconfitto No Per favore Ho fatto così Il drago Il drago Gli ho fatto vedere Le mie palle E si è messo a piangere Anche lui Hai capito? No perché sono andato qua Fammi andare a riprenderle anime Per lo meno Il boss Nel dungeon iniziale Quello che sblocchi Con due chiavi L'ho L'ho talmente L'ho talmente Fatto paura Che si è buggato E ho rimasto fermo A prendere tutte le mie mazzate E l'ho ucciso Pensa Quanto Non è vero Lui Mi sono qui per sbaglio Semplicemente Va bene? Oh Quindi Non credo a quello che dici Fatemi andare a riprendere I cazzi duri Va Va bene Kif Allora slurpiamo Ma non qui Qui mi fanno piangere Allora Domanda di lore Ma il cappello Il cappello di Achille È autoprodotto Oppure ha un parrucchiere di fiducia? No Ha un parrucchiere di fiducia A Napoli Ma qui scorre già L'audio proprio di base Qua A Napoli È lo stesso parrucchiere di Bruno Bucciarati Comunque Bene Pinozzo Posto E qua non scorreggia l'audio Lì dentro scorreggia l'audio Boh Allora Mi riposo qua Vado a prendere da mangiare Ragazzi Torno Torno subito Questa zona pianto Non per il bosimo Ma per i 6 frame Madonna Torno eh Arrivo Guardatevi Per il bello Achille Prendo anche questa Che riempio l'acqua Allora Guillo Chiara Di Cora Cora Grazie a tutti. 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 Allora, se vogliamo parlare un attimino di Pokémon... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono. E... E... Un cartone... Un cartone animato... che ha messo... su... che sotto... qualche punto di vista... è un po'... meno carente... che... 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 tutti... di vista... che... 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 da momenti... che... incredibili... che... su... 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 che... su... l'idea di è una ruolata perché lo godi tanto per chi ha giocato mai di ruolo se lo godi tantissimo grog miglior personaggio ma sono tutti bellissimi ebbè mi immagino che la campagna fa più ridere anche perché nella campagna ci saranno poi tutti i commenti del cazzo meta quindi figurati però vedere una roba così animata pensa fai una roba e poi ti ci creano una serie animata incredibile si però guardate in lingua originale la serie ma anche perché c'era per dire David Tennant era incredibile ma anche gli altri anche perché ripeto loro sono praticamente tutti attori e doppiatori e interpretavano i personaggi che hanno creato loro cioè è stato fighissimo sentirli la password del The Ring è Akible su PS5 no no ma io me la sono goduta non avevo visto non avevo seguito la campagna ci sono le doppie ma c'è anche Rosa Diaz di Brooklyn 99 c'è un sacco di gente che fa personaggi secondari che fa personaggi secondari no gente come noi poi in realtà sono tutti doppiatoroni loro però vedere qualcosa ogni personaggio è stato creato da uno di loro cioè quei personaggi sono loro quindi vederli con il loro doppiaggio ti gasa anche io però intendo che è bella anche senza sapere niente di indietro no no quello lì è vero ma perché è molto cazzone tutto e c'è una bella storia in base di serrati è piuttosto elevato però a serio perché pur essendo autoprodotto da Critical Role c'è stato un mega crowdfunding sono tenuto sì ma è un crowdfunding è tutto io adesso non so i budget che ci vogliono per creare degli anime delle serie animate ma penso che altre serie come Arcane o serie blasonate robe così che sono una gioia per gli occhi ce ne abbiano avuti di soldi ma magari per la seconda stagione avranno degli investitori un po' più ficchi sì stavamo parlando di box macchina tazze gergons e sapete tra l'altro come potete vedere box macchina uruttare oh scusate dicevo potete vedere box macchina su prime video prime video è incluso nel vostro ammodamento amazon prime dei cui potete scusate perché devo dis... potete usufruire anche di una sub in regalo qui sul nostro canale oh ah no tranquillo pinuozzo tanto ha la mascherina devo soffiarmi anche il pifero non è vero bigfoot non è assolutamente vero si riparte ragazzi si è riposato si è riposato siamo pronti qual'è questo rumore di speruzzino è un bug nell'audio sicuramente perché allora qui abbiamo battuto Magritte il non c'era un un investigatore Magritte non era Magritte l'investigatore è un pittore è un pittore era vero rende Magritte è vero perché mi viene in mente anche un un signore ah ok qui si anche nell'abete in realtà ho fatto male a scendere qui perché solo per tornare indietro a sto pezzo Giglio di Trin che ricordiamo nella descrizione c'è scritto che è rarissimo ne abbiamo trovati 600 ne abbiamo trovati non sappiamo ancora che cazzo farci ma i gre mi confonevo con me i gre si no tarlo per favore così è troppo eh c'è vergognati merda senti come digerisco ragazzi oh un'altra grazia perché effettivamente mancava ah vedi Asia è una roba incredibile non disegnava i volti perché non poteva conoscere l'anima delle persone che disegnava che disegnava tutto un significato particolare beh sì ma Magritte è quello con la mela nella faccia letterario creato da si e questo è Magritte aspettate ah no no sì è sempre Magritte però il primo no è sempre Magritte dovrebbe essere grazie Dasher eh ma io guarda che ne capisco un sacco di ah l'ho chiuso io ne capisco un sacco di arte no No psico no 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 No, intanto il cancello me lo apri, hai capito? Poi dopo passo da lì, ma il cancello me lo apri. No, vongola... vongole al cacao, no, che schifo è vongola al cacao. Poi dipende cosa intendi per arte. Nell'arte... delle cazzate sono campione. Effettivamente. Ho l'ingresso principale, fammi passare. No, sai, vai. Open the gate! Sì, zitti, zitti. Uuuuh, che paura che mi fate! Uuuuh! Uuuuh, chissà cosa mi sparate! Uuuuh, passo qua! Andiamo ad allontanarmi che sono sbattolped nel tavolo con i piollici. Uuuuh, che paura! Che fate se vado qui? Uuuuh, lo raccolgo! Uuuuh! Ah, non mi fate niente? Eh, non posso sfischiettare qua. Uuuuh, è davvero di qui! Puttana, che paura! Porca bestia! Oh, oh! Porca merda! Fermi, calmi! No, no, non caricate! Oh, porca bestiale! Vado qui, devo finire di esplorare dietro, scusate! Eh, voglio prendere anche il terzo oggetto, però! No, non serve un cazzo andare qui! Maledicti! Devo andare dall'altra parte, c'era una vietta anche dall'altra parte, mi ricordo! Buongiorno, DVD! Ma comunque non ci hanno spaccato, se mi posso permettere, eh! Eh, dovrebbero ricalibrare la loro mira! Perché potrei riprovarsi e prendere quell'altro oggetto ulteriore! Ma prima, let me take a selfie! Grazie, concettina! Grazie anche per gli auguri! Andiamo! Sicuramente noi in questo castello troveremo un indizio! Un indizio riguardante la nostra lucentezza perduta! Perché ci siamo svegliati in questo posto? Perché ci siamo svegliati privi, privi di luce! Eh? Cos'è? Dardo per balestra! Ma che inculata! Via, via! Uff! 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 Faccio delle capriole così cortissime! Devo... No? Ora vado avanti! Azioniamo il baciino! Ecco! Fatto! Abbiamo una riuna! Abbiamo una riuna! E si va! Frammento di rovina! Ma basta! Basta questi frammenti di rovina! Bene! Ce ne ho 7 miliardi! Allora... Intanto... Va che mi ricordo le robe, eh! Pietra di forciatura due! Però aspetta! Pietra non frammento, vero? Eh, vedi, vedi! Questo non ce l'avevamo! Uh! Facciamo potenziare il martello! Ma io c'ho due cazzo di semi d'oro! Non li ho usati! Ma per cortesia! Posso farmi due fiasche in più? Dove cazzo li ho trovati? Allora, qui bisogna stare attento all'uccello, eh! Eccolo! POM! Nella crapa! No! Merda di picci... Non ho detto, Google! No! Non... Non mi dire che ho messo la sveglia alle 7 di mattina! Per quale motivo? Qua giù si scende... Guarda... Gli aquilotti! Sì! Veramente incredibile, comunque... Non è l'uccello padullo, no! Eh... Sono bellissimi i rapacei! Lì c'è... Una grazia al cazzo! E c'è anche un altro bacino! Ma noi andiamo prima sotto! Allora... Esploriamo... Per bene... Perchè qui... Forse posso fare un attacco dall'Azimo! Ma che figura di sangue! POM! Ma che miseria, porca! POM! Nel culo! No! Mi ha cercato... Google mi ha cercato... Porca miseria! Aperto! Ristorante! Chiuderle 15! No! Non mi interessa! Mi scusi! Lascia stare! Lascia stare Google! Non importa! Guarda che biuchi! Qui ci hanno infilato il cazzo, eh! Secondo me! In questi buchi qua! C'è qualcuno che o ci ha infilato il mento o il pisello! Ma dei dardi! Ma io che cazzo ci faccio? Con i dardi! Sono i ventagli che ventagliano! E con porca poteva cercare di tutto ma mi ha trovato un ristorante che si chiama porca miseria! O porca miniera! Non ho visto! Se è porca miniera... Vado lì e mi incazzo, eh! Attacco di Phantom! Orbel! Pissol! Stamina! Stamina! Ok! Altro! Sì! Ci vuole un uccello ben più grosso per sconfiggermi! C'è poco da fare! Eh! Beh, beh! Beh! Eh! Ma... C'era un numero? Aspetta! Più tre, più sei, più nove, più quindici! Ma secondo me si arriva al più venti, comunque! O forse no! Fino al più quindici! E poi ci servirà la lastra, però! O comunque il pezzo più grande! No, non sono pettabili questi! Bravo, Silver! Sbocca sulle magie! Sbocca sulle magie! Guarda quanti cazzi ci hanno infilato lì! Il bacino è operativo! Ehm... Qui... Ok! Ho fatto un double check! Metti che ci perdiamo qualcosa! È la fine, eh! Ci siamo! Stiamo per entrare! D'altro, laggiù è dove siamo spawnati all'inizio! Dove è successa tutta quella diarrea brutta, terribile di gioco! Venti è tantissimo, però! Vabbè! Se il gioco è più lungo! Allora, questi qua sventagliano in teoria! Qua cosa troviamo? Parmiù la logora! Con il... Ma che tromba è? Tutta storta! Dei fiunghi! Perché hanno dei fiunghi? Aia! Però che smartellate che tiro! Ragazzi! Devo... Devo le lacrime ragazzi! Le ampolle! Grazie Poldus! Tu si che hai a cuore le mie... Le mie fattezze! Sono dei robot? No, perché? No, non sembrano dei robot! Come semi d'oro insufficienti! Ah, me li ha usati direttamente tu! No! Perché 7? Ma io non ne avevo due di semi d'oro! Ne avevo due? Ne servono due per aumentare di uno? Cioè, va come la titanita! E aumenta, no? Come le ha messe... No! Sei già prima? Me ne ha chiesti due? Hai capito? Hai capito? Nessuna lacrima? Eh, lo so... Hai capito il merda? Va bene... No, ma sì! Ma tu sei uno stronzo sei! Ok! Andatemi da affanculo! E datemi i vostri fiunghi! Piume! Tiutto datemi! Scemo pirla merda culo! Ma guarda quanti... Non c'era questa cosa nel CNT! Eh, non ci arrivo a mirare! Non ho il collo abbastanza pieghevole! Eh, ma usare la tua... La sua tromba... La uso io la sua tromba! C'era uno che cagava! Ah, runaurea! Eh, mi serviranno queste! Oh, che figura di merda! Potrei andare a vedere... Bastardi con i messaggi che li mettete ovunque! Potrei andare a vedere... Di potenziare l'arma? Sì, ma prendici stronzo! Solo che non sono ancora sicuro, aia, della... Della martellitudine! Eh, guarda qui quanta cazzo di roba c'è! Allora, dobbiamo andare anche sotto che c'è quello con la sciona! Qui ci vuole la chiave... Ed è dove finiva la beta, tra l'altro, qui! Pugnale da lancio! Come mai l'uomo non dice... No, no, è sicuro, è sicuro! Mentiva! Non è sicuro di... No, in realtà non è sicuro del... del martello! Perché vorrebbe un'arma più lunga! A lui piacciono le cose lunghe! Gli serve della lunghezza, gli serve! Mentre qui dentro... Io mi... Mi ricordo che c'era il... Bastarduomo! Ma chissà se c'è sempre lui... O l'han cambiato! Allora, facciamo... Prima questo! Ascia della luna cresciente! Partigli accuminati! Bleh! Che merda di... Dis... Disastro bestiale! Andiamo a vedere... Lassia! Destrezza 15! Forza 25! 146, 58! DD! Ma qualcosa che scala decente! Esisterà? Allora... Ah, lì non ho preso le cose! Però tanto qua... Facciamo questa cosa... E andiamo sium! Ai rovi! In realtà è che il vostro Achille potrebbe essere lontano parente di Imen! No! E semplicemente... No! Sopravvissuto! Grazie Mino! E parente... Aspetta eh! È parente... Non di Imen... So perché... Ma ho la possenza gladiatorica... Ma è... È amico di Bruno Bucciarati! Ok... È servito solo come via alternativa... Riun... Imen... Sì... Nel senso di... Imene... Mmm... Oh! Si va nella stanza dell'incularella! Infatti Bruno ha preso sperazione da Achille per la sua pietinatura come... Josuke... Sì... Josuke... Vai se gli tocchi i capelli... Ma lui invece... Sta cercando anche questo balsamo particolare che ha letto ha comprato un appunto dove gli diceva dove trovare un balsamo... Ma lui non... Eh... Gli serve ma non l'ha trovato ancora... Vediamo se qui dentro c'è un balsamo... Allora è pieno di chiazze... Io so che questi fanno luce... Porca miseria! È proprio come nel... Nel... Nel CNT! Chi cazzo ride? E chi cazzo è? Puttana! La torcia non ripara! Usteria! Woohoo! Nel buio! E i perri! Mario! Oh merda! Aspetta! Ma come si perriano questi bastardi? No! Grazie Andrea Roncato! Che scemo pirla! Cosa voleva fare? Eh? Cosa pensava di essere? Un divertente chiudendo la porta? Che stupido! Talismano spada curva! Talismano spada curva! Che non ci interessa minimamente! Chiave arrugginita! Sto scemo! Rideva! Non era lui che rideva però secondo me! C'era qualcun altro che rideva! Quello che ci ha chiuso la porta! C'era qualcun altro che rideva! Quello che ci ha chiuso la porta! Si chiamava lì il... Quella roba lì! Qua finiva la beta! Amici da adesso sono completamente blind! Uh! Porca miseria! Da qui non ho idea di cosa ci sia minimamente! Sembrava più femminile la risata comunque acuta come voce! Sì anche secondo me... No non sembrava femminile secondo me! Però non sembrava... Di quella persona! Prima di qua o prima di là? Che cazzo vuoi? Non mi guardare! Che stro... AZZO! Che dolore! Che paura merda! Ma sei pirla! Ma vatte! Vaffanculo! Ma porca troia! Dai! Eh sì quanto sei lento però! Vaffanculo eh! Vaffanculo aggianto! No! Andriche di vedere qui fuori come siamo messi! C'è nessuno che vuole accoltellare? torno dentro vado dall'altra parte io quello me lo sono spoilerato con i messaggi oh e la scala dov'era? mi curo con i critichi con i critichi e tromba su chi sta tromba grazie joy credo si legga joj 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 va bene dammi la cura è la trombetta della signora dei raid di tarlo è vero swing swing che figura d'anziano che ho fatto anima libera tiri 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 pi 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 aspetta eh fuck my enus che figura off shit dai si è spostato si è spostata la scala ragazzi no per forza si è spostata la scala non sono stato io che non mi ricordavo dov'era fa vedere eh eh pirla eh quante volte mi vuoi inculare effettivamente ma prima secondo me era era a destra dove sono qui ah vedi vedi prima erano a sinistra secondo me una burla del castello alle scale piace cacare eh tira sto pippo ma aveva droppato qualcosa però non lo sapremo mai allora qui bisogna fare questo oh lol ragazzi best platform ever chi è oh my shit dammi il culo thanks bro appreciated scale ci sono eh raccomando documentatevi sempre prima farfalla al dente sempre buona qui non c'è nessun saltello pippo slurpi slurpi ragazzi si va a 31 di forza e si fa dual wield di martelli eh solo che se io me lo metto doppio così vado in in fat roll non importa eh ho capito vector eh ma bisogna essere a sdrubali eh qui ma di abilità non aveva che abilità aveva ruggito barbarico sempre vabbè veramente pesante se paragonata a mazze dimensioni simili è necessaria la forza di un gigante per brandirla a dovere la forza di una kill là come cazzo ci vado ci salto da lì sopra da lì per forza che c'è un oggetto viola lì cazzo duro come merda ci si va per forza da sopra dai oh pistola stavo per catere e chi rolla più con due martelli a kill rollo aspetta è qui dietro è è qua dietro il pezzo lo so io fungo non si può passare lì mi fanno arrabbiare sono veramente adirate una fessura niente fessura andiamo su guarda quante vie più avanti pisello è il momento di così solo no perché Miyazaki non mi nascondi le cose oh che lungo che è quel signore cerca giù aha che paura ci siamo andiamo a prenderlo it's nostro esplorazione due punti perfetta ma vaffanculo questa foglia di capillari eh per il mio naso che perde sangue guarda te porca miseria non era il momento di pipo niente non era bam nella schiena pirla toh nella testa si eh svento la chist pom che figura di merda osteria oppela l'hai bel combattimento bro sei stato un avversario onorevole con le tue tecniche del vento ma non puoi fare nulla ad Achille ragazzi il monologo di Achille qui c'era allora quello è un ascensore ma non c'è nessuna leva perché la leva è sopra esatto ma bravissimo io no il marchigegno non si ingegna ho sentito uno squid uuuuh bravo darlo le anime porca miseria voglio le anime quante anime fammi usare tutte le anime non so quante mi hanno date però bravo Arcadia cosa mangi 8000 8000 un livello ce lo faccio mi pare dobbiamo andare alla forza di mille uomini pipiri pipiri pipi 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 pipiri pipi 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 pipii pipi 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 Cazzo, ma quanto è gronde sto posto È veramente gronde Da qui posso saltare su quel tetto E mostrare le tette Eh, laggiù c'è anche un oggetto Le altre rune danno 200 Ce ne ho 26 Dovrei pure riuscire, però Io adesso voglio esplorare con cautela, ragazzi Vai, vieni qua Pirla Oh, non ti ho preso Mi chiedo il perdono, eh C'è uno stronzo che mi tira le freccine Arrivò Uh, si arriva? Oppelalai Sì Gugnale da l'anzio Ciao 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 Vabbè, dai Serveva solo per uccidere il pirla qui Insalata di riso Buona l'insalata di riso Eh, sono Nel castello di Gran Tempesta Sono Dean Ma Machille non è un distruttore È che gli piace distruggere molto Ma non è un distruttore Gli piace spaccare le teste Ma non è un distruttore Gli piace rompere Tutti i mobili Il mobiglio Dei castelli Ma non è un distruttore È un istruttore Salve No, basta con ste trombe Che poi svegli Erano in pausa Pranzo I tuoi amici Vedi Che adesso gli hai disturbato Ho detto Ecco qui Che bisogna lavorare Sì Questo vuole assaggiare la potenza Ora 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 Lo ha fatto La mossa È tutto un sali e scendi Eh Bisogna stare attenti Ma va Ma cosa si può fare Qui c'è la finestra sotto Dove si può scendere E poi si muore E poi Simone anche Chissà quante cazzo di robe Si possono fare Per rigottarlo Questo era quello che c'era nel trailer Era il saltino che c'era nel trailer Questo eh Hoppela Ma io dove cazzo sto andando ragazzi Va 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 Che roba Chiave di Di Pietro Ah Ho capito dove siamo La mia mappa Tredizio Oh my god Cosa c'è Eh ragazzi Sono morto Subito rompere le palle Doveva venire mia mamma Mi ha distratto E c'era l'uccello Con la pappagorgia Che mi ha fatto Quindi sono morto Secondo voi Tanto le anime le ho spese Hoppela lai Ragazzi Ragazzi Sono morto con la mappa 3D Porca bestia Porca merda Porca merda Dancing Dai Mi fai male Mi fai male Quanto sei duro però Porca merda Tra l'altro fighissimo La scintilla che ti avverte Che c'è Che arriva al fuego Dai però non ci prendo Eh Eh Non ci prendo E vaffanculo che mi staggara Poi Ma come era fatto Questo piccione Aveva proprio Era un'aquila Come quella di prima Aveva un elmo Con uno scroto Addosso Lo era Sonnellino a gambe incrociate Ma qui per una cazzo Sono venuto E ora che morto Non me ne faccio Un cazzo Non ce ne faccio Cazzo Amici Troppe strade Una nebbia c'è lì C'è una nebbia Lì c'è un qualcosa Pure No Che cazzo è Scusami Ah è un riflesso Ma amici Ma scusatemi Ma come si fa A esplorare tutto Guarda qui Sono in un altro posto Tiki 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 No mi hanno visto E pirla Aia che cazzo Al volo nella faccia Mi hanno colpito Toh E uno E anche due Qua sembra proprio Bloodborne Ostia Noo A me sembra Più demons Più di blood Ma questo scusa Eri in pausa anche tu Mi spiace A me sembra Più il castello Di boletaria Di demons Di bloodborne Non ha niente Solo Se qui sopra Troviamo il tizio Con la gatling Allora hai ragione Quanto è lunga Questa scala Eccolo Oh Quanti piccioni Sium Talismano Artiglio Ma perché L'artiglio Ma quante Aquile Guarda che bello Talismano Artiglio Presumo Potenziano Le armi Potenzia Gli attacchi In salto Caspita Però Allora Buono E questo Potenzia I contrattacchi In difesa Ah quelli di Ok Questo non è male Quasi quasi Perché questo amuleto Non è che chissà Che roba Cioè aumenta Veramente di niente Tipo il peso Trasportabile 58 56 Il peso Il peso già Anche Anche PV di 20 Stamina di 7 Me lo metto Me lo metto No non sono I piccioni Questi Sono le aquile Non uccido Nessun parente Di Ricky Ma Posso farlo Non penso Proprio Non penso Anche poi Dopo scendo sotto Ci proviamo Ma ragazzo Sono fenomenale Con i miei salti Ma che salti faccio Ma sono un campione Inutile Ma un campione Sono bene Regi Tranquilla Campione Un pione Parco Sempione Sono io Parco Campione Vado A parco Sempione Pingone Vado A prendere Le anime Non mi attaccherete Mentre vado Su Aiai Piedi Orca Bestia Pure Orca Puttana Fermi Tranquilli L'ho fatto Una volta Lo posso Rifare Dicevamo Se vado qui Invece No Andare giù Di qua Questo Sentivo Del lucicchio Da lucertola Io Non da scarafaggio Proprio Da lucertola Dove è andato L'amico Pirla Sento dei rumori Molesti Sei tu Ok Come salve Signor Marco Ma sono Moro Con la forza Di mille uomini Ti tiri Ti tiri Ti tiri Ti tiri Ti L'incredibile Achille Oh Andiamo a vedere Di qua Guarda che si Vede Dentro Pure Giustamente Perché Se non vedi Non credi E qui sotto Si può scendere Porca bestia Quanta roba Eh forse Per quello Ferro Si Salve Fum O gabellone Adesso facciamo Questo eh Liberiamoci Prima Di colui Che Poco desiderabile E poi Pum 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 Bevo Per la sicurezza Hoppela Ormai Non possono Non possono più Farci nulla Nulla Ci possono Ma te possino Però Quante strade Io vado prima sotto Vado prima sotto Qui Ingegner Anculo Qui c'è uno di voi Che è muerto Ok Titanito Scintillante Ah Lì ci va Un pugnaletto Porca Troia Vai di pugnaletto Che ce ne ho Ce ne vuole solo uno Tanto Un'altra Ascia della luna Crescente Ragaz Dual Lama D'affilatura Di ferro Dimmi che posso Scudo a mandorla Misericordia Cazzo Quanta robetta Aspetta un po' Consiglio di scegliere Il potenziamento Di affinità Dell'arma E perché Prima non potevo fare L'arma Di affilatore De ferro Può essere usata Come cote Quando si costruisce Si conflisce Un'affinità Con ceneri di guerra È possibile scegliere Un'ulteriore affinità Tra pesante Ah Mi aggiunge Un Mi aggiunge Un'ulteriore Da scegliere Bellissimo Porca miseria Bellissimo Ma fighissimo Grazie Fabiux Mentre Misericordia Sarà uno stocco Sembrava Uno stocco Sembrava Oh Un pugnale Uno stiletto La medicina È un atto Di misericordia La misericordia In battaglia Si tinge Di ferocità Fai attenzione Agli assassini Che si nascondono Sotto abiti Da uomini Di pietà E lo scudo A goccia Che però Ah non è uno scudo Appeso 38 44 Poi non para tutto Completamente Abilità parata Decorato con l'antico Stemma di Gran Tempesta Ormai perduto Nel tempo Me ne sbatto Gran Tempesta Tu sei uno stronzo Vaffanculo Vai Scemo Ok Qui c'è un butto Ma laggiù sotto C'è qualcosa Grazie Duodessimus E benvenuto T Duo C'è due Allora Qui dentro Ce lo prendiamo Nel deretano Tra l'altro Qua c'è una signora Con un vaso E questa è tutta l'or Ma se io me ne vado Zitto zitto Cacchio cacchio Aspetta un attimo Che magari Questo è È L'ascensore Dimmi che È quell'ascensore In un certo senso Lo è Abbiamo il falò qui Ma Volevo finire anche Di esplorare qua Perché porca miseria Mica Abbiamo esplorato bene Anche sopra C'era un'ulteriore strada Però abbiamo Lo shortcut Quindi possiamo Concederci Qualcosa di meglio Credo eh No qua c'era Il trombettiere Dopo Dopo Torniamo su Di sopra lì E andiamo giù Io ho Un Piede freddo No perché Solo uno Mary Altro qua Allora Falò a sinistra Oh minchia Noi qua Eravamo usciti fuori Ma porca bestia Qua da esplorare C'è tutta la strada Che porta di là Tutta la strada Che porta di là Di sopra Di sopra L'abbiamo finito Di esplorare Mi sa di no No sì Che finiva Dove c'era L'uccello Che sparava a fuoco Tra l'altro Ieri si sono guardati The Kingsman Che l'ha messo su Disney Plus Ma porca troia E A un certo punto In una scena finale Quella che si vede anche Nel trailer Dove lui prende lo scudo E resiste all'esplosione Ha lo stesso scudo suo Identico Lo scudo dorato Fatto d'oro così Con due cerchi Sopra e sotto Ma adesso io come merda Devo uscire Perdonami Eh certo Ma poi potevo riposarmi Al faleo E vaffanculo Va E non me lo Non me lo locca Voi Oh E perdi L'equilibrium Che fai Sei pronto a tirarmela Purca merda Di nuovo Ma penso alle 4 Arcadia Sono morto Ottimamente con tutte Con tutte quelle zampe Avrà l'equilibrio Sì Non ti va bene Vuoi che chiudo adesso Che ti ho stancata Arcadia Eh Sei stanca So che sei pronta A scrivere Sì Una Barbie ballerina volante Sì Hop 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 No basta attraverso i cazzi Basta E non si può fare Così però Usteria Che l'urlo Fa un male bestia Che stronzo No I tavoli Tutti i tavoli E quanto attacchi Eh Lo ben so io Che urli Comunca tramone Aia No 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 Il cane Dai Scusami Fanculo Va bene Il cane È arrivato No Letteralmente Impossibile Con i cani Rompipalle Tra l'altro È una signorina Veramente Che cane Di merda No Dince Mancherebbe Vabbè Poi le due orette Arcania Te le recuperi Stasera Dai Però Chi va È perduto Io te lo dico Ho vinto Io lo scontro Porca bestia No Non ho Schivazio Eh ma Sei un perla Ok Ok È che C'hanno Tutti Un range Mostruoso Madonna Prendo i bolli Più che altro Non si stordisce mai Vaffangulo Ok Ok Basta Oh non ce la faccio mai Schivarla questa Ma perché Che problema ho Che è una cazzata È un saltello Eh Però ci siamo quasi Dai Ma ogni volta che si muore Ho avuto un déjà vu Adesso Perché mi sa che Mi non raccordo Nel castello Anche nel cnt Ogni volta che si muore Si perdono Delle anime Permanentemente Ce ne avevo 1400 e qualcosa Adesso Se le raccolgo Se le raccolgo E ce ne ho di meno Perché mi sa che si perde Qualcosina Di anime Eh stronzi Merda No Questa mi allontano Come una bestia Puttana te Minchia se se ne perdono Ce ne avevo mille Porca troia Oh oh Vaffanculo Ma ho già mangiato Tutto Guardalo No Volevo fare Lo change bands Che stronzo Ma che stronzo Non si stordisce Io punto un pochino Anche lo stordimento Però che cazzo Non sempre Ma forse Solo nei dungeon Solo nei legacy dungeon Si prende Si perde Il 30% Dici Minchia Se fosse il 30% O magari contro Questo nemico Vattene a vedere Magari Mangia le anime Boh Magari nella galera Non ne perdi In generale 697 697 Fanculo Provo a giocarmela Un po' con lo scudo Anche se c'è Delle smitragliate Infinite E però Bestia? No Che qui fa il mossone Si ma fallo però Che poi non c'ho spazio Per cagarmi addosso Che cazzo? Nooo Perché mi sposta lui L'infame E' fastidiosissimo Cos'è molto bravo Conoscendo me Ma può darsi Che qualche parte L'avevo persa Perché non le avevo Recuperate Però qui Effettivamente Si perdono E che quando Per fare il Contrattacco E' un po' Inutile Perché Lui ti sposta Indietro Cioè ti Dà del rinculo Vabbè le anime Me ne sbatto Le palle Urla A questo Indicando Il mio pacco Vedi Questo qui E' completamente Inutile Perdo solo La stamina Cosa ha fatto Bestia E' bastardo Non ho la vita Cioè la stamina Questo qui E' un erede E' un erede In Infilato No Innestato Un erede Innestato E' il primo Boss che ci capita Nel gioco Quello che Ci ammazza Dritti Dritti All'inizio Vaffangulo Ok Merda Uh Però come mai Qui non è boss Perché non è unico Ce n'è più di uno All'inizio Semplicemente boss Ma come nel Tutorial C'è Il Pirletta Che te lo dà Come boss Ma non è un boss Eh ma pure io Ma non si capisce Un cazzo Di sto boss E' veramente Difficile da leggere Cioè più che altro Ha sette mani Quindi ti attacca Con ogni cazzo E io ho Pochissimo range Avessi più range Ma perché mi giro Sempre dal verso Sbagliato Avessi più range L'avrei fatto tranquillo Probabilmente Tante volte ho perso La guardia E che si allontana Sempre Non ce la faccio Ad avvicinarmi Adesso raccolgo Questo oggetto qui Che mi ha rotto Il cazzo Ascia degli Altoparlanti Non dovevo Farlo Ops Speravo si fermasse Un pelo Prima E ho provato A pararmi ma Questa è la finestra Un pelo più comoda Ma non è detto Voglio vedere se riesco A tirargli una botta Quanto danno Gli faccio col martello Col fuoco Dobbiamo farcela Non possiamo incastrarci Con questo stronzo Con questo stronzo Che sicuramente Mi troppo Abbiamo dovuto fare Un'ascia Però Aspetta Che cazzo Vado Sto menù Non ce la farò mai Eh ragazzi Incredibile Però è un'accetta Da pirla Accetta Degli altoparlanti Ma sono identiche Solo che c'ha un pelo Più di critico Ma il lupo appestato Non ce l'è più Non si possono usare Qui dentro I I Cazzi Però posso fare Queste Non si possono fare Qui dentro I Le vocazioni Nei dungeon Allora Oh pirla Sono qui Ostia Ria Grazie Jovic Pi 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 Bestia Che legna Come li ho schivati Tutti Questi Sono mago Ahio Vai E mi caghi Adosso Mi caghi Poi Mario No Ho saltato Per schivartelo Uff Uff Quello è palesemente Un bug Comunque Che si A un certo punto Quando cade Riprende subito La posizione Fa un culo Merda Devi Pupparmelo Tutto Eh Sei scomparso Perché hai paura Che il tuo cadavere Venga deturpato Non è servito Assolutamente Nulla Fare Questa cosa Però adesso Abbiamo la libertà Di esplorare Ho visto Lassopra Cosa cucinavate Qui Eh Qualcosa Di slurp Pezzo Di cazzo Oh Dammi un po' Di vita Che l'ho perduta Il fuoco Lo ha mutolito Dite bene Vediamo cosa c'è qui Nelle chiucine Della carne pregiata Che ci baffa L'attacco Tra l'altro Eh Ricordiamocelo Voglio trovare la ricetta Per la carne pregiata Grazie Sor Bentornato A Toto Qui c'è una puerca Non si apre Da codestolato Maledizione Zitti 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 Un attacco A solle presa Stopirla Ah Lo senti The power Oh Porca bestia Porca merda Uh Ne sto saltando Più di una C'è la stanza Quella con i cani La stanza Quella poi a sinistra In fondo Devo esplorare Un sacco di roba Pensa se adesso Respawna Quel pezzo Di merda Eh ma perché Eravamo un pochino Incatramati Senza vita Magari era anche Friendly Ma non Credo Quello non credo Ambe Non c'è più La libertà L'altro Vedi qui c'è Il quadrone Di Godric Grifondoro Era Godric O Godwin Questo Ma è vero Che questi Li potevo Inculettare Tutti così E non l'ho Fatto Prima Siete molto Belli Cavalieri Eh ma Devo Andare A fare Una cosa Corri un pochino No Porca bestia Mesplasie Attacco Dell'ano Poi è bello Il martello L'unico problema È il range Perché il martello È fichissimo Ma è un consumabile Io pensavo fosse una gonnellina Sarebbe stata perfetta Eh sì Tarlo Ma infatti Quello lì Con tutte le braccia Quelli Si chiamano E Erede innestato Perché hanno Tutte le braccia innestate E sono quelli del suo equipaggio Di cui parla la signorina In teoria Ma descrive anche la stanza Perché non me lo ricordavo Quello Allora Eh Nei consumabili Era Dicevamo Consuma PA Per trasfigurare L'esecutore In un oggetto Nelle vicinanze Ah sono i rami Bianchi Del pippo E la trasformazione Nei culi In una sedia Tipo E qui siamo sopra Ma che cazzo Ah questa è la stanza Sotto quindi Qua Aspetta È che qua si sblocca Lo shirt Che cazzo Da qualche parte Finiamo di esplorare Sopra Prima Ok Questo è quello che vedevamo Prima dalla finestrella Fuori E di là Come pisello ci vado C'è un derrazzo Vai Dean Vai Ti regalo questo Sì Tu uomo Aspetta eh Yes Queste poi potete Ritagliarle Farci delle emot Delle gif Per telegram Fateci quello che vi pare Cazzo Da sopra Ci si va Si va da sopra Si butta lì E si apre pure Lo shortcut Va bene Va bene Justin Si si arriva da sopra Va bene Poi ci guarderemo C'è roba Fica eh C'è un forziere Un oggetto viola E altro Vai Check Tutte bellissime Stanze Comunque E qua Usciamo di nuovo Fuori Buonasera Torniamo a esplorare meglio Dentro va L'altro mi sta piacendo un sacco Che su Instagram Adesso Ho messo lì L'ultima foto Come se fosse Achille a parlare Ed è fantastica Ed è fantastica Allora Finiamo di esplorare Queste due stanze Che sono i cani Merda Ah merda Aspetta Aspetta che ho finito Le bombe Nooo Eh sì ma Achille Eh sì però Porca bestia Vai Oh Peccato che non c'è Riposto per tutti Vaffangulo Promemoria delle crisalidi Promemoria delle crisalidi Un oggetto chiave Fermaglio avvolto in un drappo di velluto rosso Questo sarà da Dare alla Alla signorina Dalle Però dalle crisalidi Sacrificati in nome degli innesti Eh beh sì Allora sì Tutto l'equipaggio della tizia Che Che è stato Gli hanno strappato tutte le Simoro Antonio Certo Ho ormai avvolto un drappo di velluto rosso In cui si intravedono macchie di sangue Si intravedono Era letteralmente nella shit Gli spiriti evanescenti cercano di trasmettere un messaggio Ma nessuno può sentire la loro voce Chissà se ci dà la fica dopo La signorina Guarda ti ho portato un pezzo di stoffa Mentre di qua È tutto così buio Fammi accendere la luce Oh Salve A star nutito Salute signore Oh delle frecce What's the stonks? Oh lei vuole il martello Prego A lei a lei Non si preoccupi Ostia Che spada ha questo qui? La voglio La spada con la lunghezza Salve No non mi sparate No per favore Tutti quanti Poi sono delle frecce così lente Potete venire una alla volta Che ne so Eh Tarlo Ho fatto un ride Vado qua sotto Faccio le termopili È un trombetto Troppo piccola Quella trombetta Oh porca Scusami Vieni qua Firla Porca bestia E basta con questi ride Oh E vaffanculo Aia Double in trouble Questo aveva lanciafiammino Aia Uno alla volta Dai Uno alla volta Eh Non ci avevate pensato Che qualcuno potesse Capitarvi di dietro Brutti pirla Oh che fai dai calci Non si danno i calci È maleducazione Aia la mia stamina No No Basta Tirare le cose Sì Col martello Proprio Li faccio Bonk E fa l'effetto Fisarmonica Tipo cartoni animati Tra l'altro amici Io sti giorni Mi ci metto Vi giuro Mi ci metto Ah una picca Voglio Creare una Una opening Sulle note Del tema di giorno Giovanna Ah ma qui Arriviamo all'ingresso Chiamo sesto Mi dispiace Poi Povero sesto Peggio di uno schiavo Ormai Che figura di sangue Che ho fatto I kukrik Ma qui posso anche chiamare La croce rossa italiana Sono fatto un salto Con pirouette In Al In cima Qua in teoria Arrivado all'ingresso Schiniere da esule Porca Puttana Ma pure esplosiva Vaffanculo Pirla Mi sono caccato Adosso Ma A cagare Vai Allora andiamo di là Dove c'era prima Il fatto E per me Un altro Però ce li ho i pugnali O zio Topi Pippo Quanto cazzo siete duri Topolini Via Schiacciatopo Ah via Via Topo Schiacciatopo Vaffanculo Aia Fatti Non pugnette Aia Miseria E' il momento di ora ore 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 Mi piace canon che Achille invece di fare ora 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 fa ora ore ore ora come quello Chi era? Come si chiamava? Porca miseria perché ho questo dubbio? Non è Luca giurato ma è l'altro Sempre il telegiornalista lì E' bettello esatto Allora qui serve sempre solo una chiave Io la infilo Un tesoro Un tesoro Due tesoro Sigillo dei Cida Ustia Uccisore degli dei Breviare lo sacri deema No sacri derm Sigillo Allora questi qui Consegnano un chierico E' ok E' il sigillo che cazzo che è? Ah è un'arma per i miracoli credo Ah eccolo Potenzia gli incantesimi dei Cidi No adesso sono indeciso Sacro sigillo delle apostole sacri derma con intarsi di ossidiana Si dice che rappresenti la manipolazione della nera fiamma Catalizzatore in grado di potenziare gli incantesimi dei Cidi No non vi offendete eh Eh? Per cortesia Allora Dove ficca siamo qui? Runa Aurea Ah qui mi piace Mi piace qui sopra Che non c'ho più ampolle E qua non le recupero mica Però potrei fare qualche evocation Da sotto c'è l'acqua Allora facciamo questo simpatico trucco adesso eh Oleg Ah questo è Oleg Ah questo è quello che mi ha dato giù in fondo la creatura di merda Però non ho abbastanza mani in generale per evocarlo questo Quindi evocherò I soldati di Godric Andate là Andiamo Là Vabbè il primo lo prendo io allora eh ragazzi Vabbè prendo anche il secondo io Tanto è qua Porca bestia No Volevo curarlo Io volevo cularmi Aspetta ci penso io Eh ma porca miseria Va bene così dai Ok Pietra da forgiatura 2 Vai vai dammi le spalle Dammi le spalle Mi piace quando mi date le spalle Oh Perfa eh No Ma Eh signor spirito il collega E così ci si chiura Ah eccolo eccolo Bene bene Ottimo Ottimo Cavalieri Ottimo Perfetti eh Adesso Ne manca giusto qualcuno Però per le balestre siamo a posto eh Porca bestia Ma Fa un culo le fiasche Ma che servono le fiasche Devo andare a esplorare tutto il mondo ragazzi No no mi curo perché ho il talismano questo qui Con i critici mi curo Allora Fammi accendere la grace Sono tutto sporco ragazzi Ma non vi preoccupate Lampeggiano Vanno via E vabbè Yavatin va E qui è aperto perché l'ho lasciato aperto Lampeggiate pure Non vi preoccupate Potete lampeggiare tutto il tempo che volete Ah abito da Popol Enus E se ne sono iti Dal collo pende un'asse raffigurante Un tentacolare albero Con radici e rami che formano due aperture Sono ceppi autoimposti Una testimonianza della propria fedeltà all'albero madre Che incrementa la fede Ah incrementa la fede Infatti mi va Ah no Vabbè di uno Ma mi sembrava Mi sembra un pochino Cioè una croce Andava bene lo stesso eh Non devo sedermi Adesso sono respawnati Tutti di tutto il mondo Ma chissà se le balestre se le distruggo Rimangon distrutte Ah no i balestreri rimangono muerti Buono Questa era una bugia Non era vero Ragazzi ma Ehi Del pc Forse non è fattibile Forse non è fattibile E adesso come merda mi riciccio fuori da qui Scusate Allora innanzitutto Fatemi usare Le animelle Usa Usa Quante ne ho? 9000 Ma qui due livelli Forse riesco a farli E se uso tutto Ma per domani In vigore Live 1821 Perché? Ah per domani Se a 18 Va detto Marco Non Le 19 Non lo so Però domani sera Marco vuole farla live più lunga Partendo da prima 179 Mimme Vediamo se riesco a far Due livelli 1921 Mi pare Aveva detto Sì Ok Due livelli Ora Non potete Tie Tie Fanculo merdi Tie Magari più avanti Se si serve destrezza In qualche modo Sì Voglio arrivare a 31 Di Di Forza Sì Non è che se magari Ma come cazzo Ma come cazzo Chissà se poi rimane rotta Eh però sopra Ah bravo Bravo Che sei sceso tu Così non mi cacchi il cazzo Con quella balestra Tre merdi Oh Oh Sì Andiamo Canino Qui c'è qualcosa No Eh sì Beren Allora c'è da dire che È fatta In funzione del gameplay Eh La Li ha dei nemici Perché altrimenti sarebbe Terribile A posto Quanti cazzo siete Però Perché se Sativassero Tutti quanti Sarebbe Terribile Terribile No Perché me l'ho Slocato Alla fine Vai Vi è qua Che figura Di spanne No Voglio fare I perri Voglio fare Non me li fate fare Non me li fate Porca miseria Sa sentire Fa un culo Merda Niente Solo per i parziali Faccio Affangulo No Il martello è l'arma migliore Addirittura Se ci fosse un martello Col manico lungo Che cazzo è Oh my shit No no Ma qua come ci torno Se c'ho Da uccidere Sette miliardi Di persone Eh qua sopra C'è l'altro Arcere De merda Infatti Che io non lo conosco Quello lì Sicuramente avrà Degli attacchi Che mi cagano Nel culo Brucia il comando Che figura No È veramente Scusa Non è Io non l'ho visto Full metal al Che mister Oh porca miseria Non è lui Salta via Salta qui Sta disboscando Tutto Porca bestia Ha 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 Non urli Dammi la tua testa No Non può essere Ancora Visner No Sangue animale Vecchia Zanna Le leggende Narrano Che il viso Che cospargeva Il corpo Di Achille Era di Un leone Chimerico Di dimensioni Naturali Che lui Con il suo martello Ed estrema Disinvoltura Ha sconfitto Achille L'uomo Di là Devo andare Adesso Ho sbagliato a dire Ho rovinato Il momento Il sangue Che cospargeva Il viso Cosa ho detto Ah non è vero Lo scrivete apposta Per darmi fastidio Cos'è il sangue Chi è che l'ha detto Chi l'ha detto Eh vabbè ragazzi No non è possibile Non è vero Oh Ah 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 Chi mi vuoi fregare a me Eh Eh Pirla Qui si inchinano Perché vogliono Farmi passare Ne ho saltate di cose Per i tetti eh Guarda qui Che ti fanno andare qua Perché qui puoi saltare Di sotto E morire Se per caso No Avessi deciso Di farla finita No ragazzi Boss finale Del Dungeons Pensa che è trollata Se compare qui E non oltre Il cancello Talismano del drago Folgorante Danni da fulmine Incoming Prima di andare Prima di andare lì Però Voglio Finire di esplorare Sopra i tetti Ora ma come che Ancora le ampolle A più zero Eh io che cazzo Ne so Non ho trovato niente Che mi potenzia Le ampolle Allora Eh no Dobbiamo teletraspornarci Porta principale Di rupo Torre baluardica Ma tra l'altro Non siamo andati Fino in fondo Al castello Qua si va Lungo il ponte Incredibile Allora Andiamo qua Prima Va No Ti gratti il chiu Così No Cosa è successo Là dietro La stamina No Il gatto al culo Che puzza Che fa Comunque la build arco Si può fare Ed è fighissima Ragazzi La build arco Si può fare Ed è fighissima Intanto con una freccia Vagante Ho distrutto Completamente Un Qualcuno Là dietro Grazie A The tomb I No Facciamoci 40 freccione Qui Oh Pirla Mamma mia Ragazzi Ma quanto sono Uh Uh Eh Ah Vedi Lì sotto Eravamo usciti Da quel buco Lì Noi Va Va che roba No L'audio Scoreggio Scoreggia Puzza L'audio Li facciamo Oh Oh E riapri Sto Applicazione Eccolo Devo metterci Infinita 1 Sì Cosa ci attende In questo Balcons Soler O Vastora Ho semplicemente Vista Incredibile Là davanti Dove sono Spawnato E mi ha ucciso Un tizio Facendomi cadere Di sotto In che maniera Non si sai Poi mi sono risvegliato Da un'altra Parte Nella mappa Un attimo Perdersi Tutte le cose Oh Pirla Top Adesso Eh Adesso Scemo Pirla Perché Quello lì C'è Dorato Vai Pietra di Forgiatura 2 Possiamo potenziare A merda Ciao Allu Runa Guarda laggiù Quanta merda Di roba Però dobbiamo Chiudere Un Cuerchio Anche qua Sotto Ma come si fa A chiudere i cerchi Qua c'è una campana Importantissima La campana Nei giochi di Miyazaki E quanto platforming Bisogna fare Qui Ah qui sono Qua sopra Ma Non è la parte Del trailer Dove qui Si può entrare Ecco dalla finestra Questa C'era nel trailer Bella bro Bella fratello Roger Ma Roger L'avevamo L'avevamo già sentito Noi Roger Devo sfondare Tu mi dà fastidio L'arredamento Sconfiggerò Godric Godric Grifondoro Perché lui Ha la risposta Per la mia lucentezza Per il mio Mento Aureo Ma posso vedere La grazia Perché ancora L'aureicità Non mi ha abbandonato Del tutto Ma Non mi ha abbandonato Non mi ha abbandonato Non mi ha visto Non mi ha abbandonato Non mi ha abbandonato Del tutto Ancora Non mi ha mai Non mi ha mai piuttosto Quando mi è prima Vincenzo Per i miei Io sono A alcuni Magici Solti Vuoi imparci Una Come un Fale Tarni Un po' Guido Di Grace Mi amador Dio Sì Ma perché no, dai Fammi vedere un po' cos'hai Questo qui è l'elicottero col pene Ah ma è una cenere di guerra questa però, attenzione Sono tutte cenere di guerra Però queste qui sono cenere di guerra magiche Il che vuol dire Ah non mi dà Arma rotante Magia, ciottolo, scintipietra, spadone Cariano Cazzo lo voglio provare però Perché faranno danno magico Su spade piccole, medie martelli E questo su spade basta però Tranne armi colossali Posso fare solo l'elicottero col pene L'elicottero lo prendiamo giusto per Per vedere, dai Si lega la famiglia delle scintipietre Sono frutto degli studi dell'accademia De Raya Lucaria Che si trova a nord di questo castello Ah Hai capito Aspettate E quindi Raya Lucaria è qui Il cappello è un finferlone Sì Non c'è nient'altro qui Vero C'è solo lui che poi si sposterà da qua E lo troverò No scusate Qui c'era della conoscenza Ah e qua si arriva Qui dietro Dietro i pirelloni Oppela No scusa Oppela Ma dicevo Oppela No Bello Azenomisco però Che Che raptus Di sex C'era nient'altro Ahia Fermo 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 Ahia Oh Oh Ops Upsi Du Va a morire Mi fa Allora Facciamo una cosa Va Uh Andiamoci nella maniera Veloce Parca bestia Anche era il volo E questo è andato Ora A noi dois Ah Ai ai Lo senti Il martello Della potenza Sì 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 Il prossimo è un perry Oh no ma a questo però E a questo Ok Dobbiamo tornare su nei tetti Per vedere le tette Perché dobbiamo esplorare L'ultima parte di sopra Andando su C'è quella scensura Che ancora non abbiamo trovato Come attivarlo Allora Da qui Andiamo dietro E sono i perry Del chad Quelli perché Quelli che funzionano dopo aver flexato Sono proprio i perry del chad Allora C'era qualcosa qui sopra Che dovevamo ancora esplorare Ragazzi non spoilerate Mi raccomando C'è il signore qui Nascostissimo Nel buio della noce Cosa fa il salto così Da anime Animish E la trombetta Chi la suona adesso Tutti a dormire Rimangono Se nessuno suona la tromba Allora Dovevamo esplorare qualcosa qua No No sì Si può salire qua Ma L'aveva già visto prima Non è spoiler No no Se non mi sono accorto Fatemi accorgere a me Delle cose ragazzi Poi in caso comunque Allora Qua si può scendere Perché andare lì dentro Ci siamo andati A buttarmi di sotto Vai E c'è l'uccellaccio Che ci sdruma qui Dobbiamo correre Non arriva fin qua Non arriva fin qua E qui si va qui dietro E qui si va qui dietro Quindi posso prendere già Questo oggetto qui Sto cercando di vedere Sto cercando di non Di non ritrovarmi Chiuso da qualche parte Ma che cazzo Potevo fare da qui quindi Ma te guarda che storia di robe Ma che figata è È assurda sta roba Sono fighissime Ste cose qua Che t'accorgi Di giro Muore Io non dovevo fare Tutto il giro Pirla E qui intanto Apriamo questo Che mi fa vedere Il can Però No Miazaki E peccis Ragazzi Ormai abbiamo confermato Che miazaki E peccis Chiave della spada di pietra Molto buono E uno scrignone Coppa di tartaruga In salamoia Cos'è che fa Questa Aumenta brevemente Il recupero di vigore Ok è verde Giustamente Boh Esplorato 100% No C'era qualcos'altro Nel tetto Da esplorare Credo Allora Sì Bello Ma nelle profondità Di esso E chissà come Cazzo Ci si arriva Perché l'ascensore Questo qui Cioè È comunque Giù di sotto Ed è tanto In profondità E però Non si muove Andremo 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 Il meccanismo Il meccanismo Una cosa Lì Veramente Una scelta Incredibile Qui sotto Che c'è del legno Dove si può Palesemente Scendere C'è un'entrata Da qualche parte No Semplicemente Ti fanno scendere Fino al tetto Giù di sotto Forse Di sotto Non avevamo Esplorato Alla fine Andiamo A controllare Ok Per fortuna Che abbiamo I piedi Durissimi Abbiamo Ma duri Duri Dobbiamo vedere Anche qui Bisogna esplorare Ogni cazzo Di anfratto Che c'è una Sorpresa Dopo l'altra Porca miseria Io sono Veramente Indurito Da questo Level Design Ok Ah Eee Qua C'era sto Ponticello Che non avevamo Fatto C'era sto Ponticello Che non avevamo Fatto Perché eravamo Andati In Dritto Noi ci eravamo Buttati qui Ma ci eravamo Buttati di sotto Siamo buttati di sotto Quasi Parkour migliore di Dighlight 2 Sì Assolutamente Non mi fai niente Non mi fai niente col tuo vento Aia il vento aureo Io Te lo faccio sentire Mamma mia E droppami qualcosa E droppami qualcosa E droppami qualcosa No Dammi il di dietro Grazie Questo è viola Eh Questo è viola Importantissimo Slurpy Slurpy Cosa ci fa Ricettare Questo ricettario Dello slurp Quale era Il Il 10 Freccia Adosso Ala di Tempesta Vabbè dai Va bene lo stesso Va bene lo stesso Un po' meno slurpy Però dai Va bene Ma basta Di mettermi Anfratti Cose Dove Voglio finire Voglio andare Lì dove c'è Il figo Luis Figo Che mi aspetta Poi non serve un cazzo Ah no Mi butto lì sopra Mi butto Dopo posso risalire da qua Mentre da questa parte qui Potri darle un 3G cristallo Sì Sì posso risaltare Indietro Ma tanto vado là Io anche lì non ho esplorato Un cazzo lì di sotto Eh Ero tornato indietro In un In un anfratto Del pube Qui a cosa mi è utile Saltare giù qua Che li posso prendere A freccine Pirla Oh non fare Destra e sinistra Archer man Piripiripiri Piripi C'era un cazzo Venire giù da qua Ma qua c'è Un signor Uomo Ah lì sotto È tutto Come sei fatto Tu Uh uh Uro è caduto di sotto Zompando Fai più danno Fai più danno E togli anche di più La statura La La stabilità È successo È successo Tutto è successo Sì Allora Riandiamo Ah Allora Qui possiamo fare Ma possiamo fare Il taglio Di qua Zitto Uccello Zitto Non si può fare Il taglio Perché qui Uh porca bestia Porca merda Ma arrivi fin qua E lo sapevo io Ah Pasta Basta La pasta Fermo Croce rossa Italiana Mi mostri I documenti Sanitari Fanculo Ho l'hyper armor L'uccello scrota L'orizzonte Con quell'elmo Sì Effettivamente Bravi Complimenti A te Ti faccio Un backstable Che mi serve La vita E se è possibile Te ne faccio Anche un altro Grazie Ora Torniamo 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 dai nostri Signori Ma se io Agro Agro Pietro Agro Pietro Ecco Vediamo di sistemare Vediamo di sistemare la questione Tornato E su Camillo E Pure Fermo Ma questo è un mostro Ragazzi Mi ha preso l'impiuto Sbagliato Che è Dragoide Eh 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 Allora, per fortuna è rasciabile e facile Che pelo Qual è il palo? No, li faccio i capricci Mi danno fastidio Mi fanno i dispettini Peppo Allora Prima questi Poi Ah No, volevo colpire prima l'altro No, volevo fare il backstabo per rifarmi quel po' di vita, ma niente Ora Che pelo ragazzi, stavo per creparci No Grazie, fa Eccolo Grazie per la resiubba Eh, fatto di girare, basta un po', dai Uh Fanculo Pezzo di sterco Or Le anime Beh, sale Una cosa molto stonks quella Eccoci Affanculo Eh Eh Ah 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 No Affanculo, pirla Volevo fare le ficate ma mi fai male Elmo da cavaliere esule Nessuna Niente Nessun equipaggiamento coprirà questo volto Questo volto Forgiato negli anni Dalla durevolezza Dalla lucentezza che ormai ha perso Ma la ritroverà Purulento What's the fuck E qui Puoi tentare di invadere il mondo Di un altro giocatore come dito sanguinante Se l'invasore avrà successo Usare il dito sanguinante purulento E avrà inizio un'invasione multiciocatore Puoi tentare un'altra invasione Nello stesso modo utilizzando un dito spettrale E si consuma con l'uso Scusa, e questo allora Invia un segno Ah, questo qui invia il segno di evocazione Semplicemente al bacino Questo qui invece è l'occhio rosso incrinato Praticamente No, non è molto slurp In realtà Non so Non mi piace Non mi piace molto Tremo, tremo Vediamo Vediamo cosa ci attende qua Freccia Si siende Ah, ok Praticamente si finisce dietro Alla porta con le chiavi di pietra Quindi le porte con le chiavi di pietra Non sono Inaccessibili Ci manca solo Eh, non l'hai trovata Perché gatto Qui da esplorare È un piropiro Tac Et voilà Ma l'hai trovata nel castello L'effigie No, aspetta Cosa intendi tu per l'effigie? Che effigie Cosa hai visto tu? Ah, il coso per il pvp Sì, l'ho trovato Cinque secondi fa L'ho trovata Ah no Te intendi quella Te intendi queste qui Queste due Queste due Lo trovate qua Lo trovate Alla porta del colosseo Questo qui Proprio qua Oh, che figura Mi scusi Allora Possiamo fare un altro livellino, eh E siamo a 30 di forza Al prossimo livello di forza, ragazzi Dual wielding di martelli E poi non mi muovo più Allora Un livello POM 30 E ci manca Quel Ok, ci si arriva tranquillamente Dalla finestra qua Tra l'altro No, no Gatto Anche perché tanto Adesso Dovrò andare in un posto Che penso ci sarà una boss fight Quindi Niente parlo E E poi chiudo Sempre Ok Dobbiamo finire l'esplorazione Di questo posto E sicuramente lì però ci si arriva cadendo da lì sopra Porca miseria Forse no Perché noi prima siamo andati dentro sto buco qua Ma Adesso prendiamo a scappellate Tutti quelli che ci capitano a tiro Uno Uno Due E tromba poco tu Aia Aia Scusami Scusami Non intended Non intended Secondo me Tricchi 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 Caffanculo Merdo Merdo Eh no Hai dato con la Ho sbagliato tutti i tasti Che potevo sbagliare Tricchi Tricchi Ha Azziccato il barile esplosivo con L'acciarino Non è esploso comunque Zero su dieci Aia E Tricchi No Voglio il target Che devo fare un backstabo Per riprendere vita E voilà Siete andati Tutti Eh O c'è qualche altro tuo amico Qui Basta di tirare i calci Pezzo di merda Ah Balestra del soldatolo Allora Fammi andare a prendere L'oggettino lì sopra Era il momento giusto Per ora 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 E' vero Me lo scordo sempre Di Di avercelo Fa ridere Che è ora 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 Freccia incendiaria Va bene Tanto ne posso craftare Sette miliardi Eh da dove cazzo Sei uscito Non finiscono Ah eravamo andati giù lì Prima Giù lì Mentre ora Andiamo su lì Che lì c'è uno Bello grosso Incazzone E c'ha pure Dei cani L'ho visto Il cane Accasciato di fianco a lui Gran scudo di legno C'è ancora uno Ma avete rotto il cazzo Quanti erano Sette miliardi Veramente un esercito vero Ma che figura di pet Puff Allora Qua c'è il sergente Che Ma cos'è un troll No non è un troll Semplice però L'unico via d'ingresso No C'è anche perché C'è una statua Da rompere lì Una statua Di quelle che danno Materiali E la devo far rompere A lui Credo Non so se c'è un modo Per romperle Da noi Ok Là c'è un piccione E c'è anche una porta Quanta cazzo di roba c'è ancora Uh Un bacino 20 ore di gioco Non ho mai usato L'attacco con salto Lo vedo da te Dico Ma quanto sono stato idiota Fino adesso Eh ma è fortissimo L'attacco con salto Minchia Una grazia Una grazia Che mi ringrazia E l'ascensore Completismo 100% Ragazzi E lui E lui E' l'ascensore Del marchingenio Non si apre da questo lato Cagadosso Perché c'è una mezza strada A metà ascensore 100% Proviamo a fare Il tizio grosso Qua cosa c'è E' la rafforciatura Ma quanta merda E' vero Che c'è anche Tutta quella roba lì E' infinito Non mi avrei mica visto Cane di merda C'è il cane L'attacco con l'arco Da bello distante Fermo Fermo Non c'entra niente Lei E' una questione Tra me E' il cane Lei venga qua Comunque Che deve rompere Questa statua Che bella spada La vorrei Può fare un attacco Bello peso Non lo rompe No No Non la rompe Oh Hai rotto il cazzo Cane E basta Oh Affangulo Mi scusi eh Non volevo uccidare Il cane Eh Ma se non la rompe lui No Perfuerza Deve romperla lui Scusami Persona incomprensibile Non riesci a parlare con la statua Qualcuno Eh ma mi serve un nemico più grosso Di notte forse Ma anche al castello Cambieranno i nemici Perché non gli fa altri attacchi Così Aia Mi è ucciso Volevo provare a fare le cose Ma Ma quella info che ho letto Non Non mi ha Non mi ha Dato Chissà che hint Allora Facciamo così A sto punto Tanto adesso Quelli là dietro Non li aggriamo Il cane è morto E basta con ste mani Comunque lui è grigio come noi Eh ragazzi Aspita Forse è bene curarsi Che dolore Non si stordisce Porca vacca Che palle Persona incomprensibile Ma Come l'altro Che abbiamo trovato Nella zona rossa Se solo avessi Scala Dipinto profezia Qui dobbiamo Trovare Questo è Raya Lucaria Secondo me Opera di un artista errante Sembra che l'artista Abbia catturato il paesaggio Visto attraverso lo sguardo Di chi sta per essere Stretto nell'abbraccio Della morte Ancora oggi Visitare luoghi Immortalati Dal dipinto Permette di comprendere L'artista Ok Sono Più o meno C'è la stessa descrizione Però si vede Il castello Di gran tempesta Con tutto il coso Boh Dovremmo trovarcici davanti CC Dai No ma è quello Con lo scroto nella faccia Mamma mia Che colpo Che gli ho fatto Un colpaccio Però mi fai vomitare Giri tutto intorno Alla stanza Mentre si danza Ma che Fotofinisc Allora Dov'è che sei mo? Fammi osservar To Merda Abbiamo trovato Un sacco di pietre Per fare Dal più Trainsiu Però dobbiamo andare Dall'altra parte Dobbiamo vedere Se c'è Nell'ascensore Un ingresso Mezzano No No Oh Hai rotto Hai rotto i coglioni Hai rotto E basta Mi spacchi Pirla Eh ma sei infame Sei No Eh Ho sentito eh Ma chi sei tu? Ho finito le fiasche Ho finito Di nuovo Per carità Ho battuto il gigantuomo Lì ma Un seme di fazio Seme d'oro Come d'oro Una pozione in più No Perché ce ne vorranno altri due adesso Porca miseria Chi è? Ah grazie Molto gentile Come Il vento ti accolgo Signorina ma lei è come me È una fica Signorina Lei è ancora aurea Intanto un attimo Mi scusi ma Devo raccogliere qui La pietra da forgiatura Spacco anche un pochino di robe Mi dica di più di lei Certo Non sono Godric Sono Achille Laureo Nefeli Lux Un personaggio All'inizio era Ora Lux E la figlia Ok Quindi anche lei vuole combattere contro Godric Si farà evocare quindi Eh sì Però qua dove cazzo vado Vado qua da Godric Oh purca miseria È qua che si va da Godric Ragazzi Allora di là è un punto Così Aspettate però eh Perché ho finito le fiasche Andiamo un pochino a rinfrescarci Ma io qua posso Aspetta un attimo eh Ecco che ti spacca la statua Verissimo Io posso buttarmi di sotto qui È fighissimo poter esplorare in questa maniera comunque eh Cioè è veramente incredibile sto castello Forca miseria C'è tutto Grazie Saro real Un po' di male È diventato tutto blu È diventato tutto blu Laggiù ci sono i ratti No ragazzi Dove stiamo andando Pietra da forgiatura Lì non si riesce a saltare Forse sì No Non si riusciva a saltare di là Team paparo team cocodrillo Pocodrillo Grazie Grazie Quentin Tarallino Voglio fare una roba prima eh Adesso andiamo subito a prendere le anime Non è quell'ascensore E no dai Di pottini ci sono Questa è una trappola un'inculata Prendo ragazzi Guardate tutta sta distruzione Questa qui è una palla che è rotolata da qualche parte I pottini Ciao pottini Oh Oh Porca merda No signor Potter Harry Potter Che schifo L'ho rotto Era pieno di square Era pieno di squirt No Scheggia di vaso vivente Raviolo di carne cruda Buono raviolo E questi Vaso incrinato giustamente Un altro vaso incrinato Fermo Ah vedi l'inculata dov'era E chi guarda di tempesta Anche questa è una di quelle che fanno Wow Così No? Con tutto il vento in giro Le robe Ucri Eh Addio desaccio Ragazzi ma come cazzo faccio a staccare oggi? Come faccio a staccare? Che dove mi giro mi giro c'è un botto di roba Distruggo tutto Rompo Guarda pure qua sopra Io voglio piangere No dodici ore no Anche perché comunque saremo Tutte le mattine A partire dalle mattine Poi è il pomeriggio praticamente In compagnia comunque Quindi Sono innocui Se solo avessi oggetto necessario Un pisello Se si alzano Gli faccio un'ora ora ora Ci sono alzati Ci sono alzati Oh mi prendono a sassate Scudo della crosswords Ah fanculo Andatevene Firla Tra l'altro Tarlo ti sei preso bene tu col gioco Che ho visto che ci stai giocando E tu sei uno di quelli sfigati Che Ah dare il sole è troppo difficile Io non ci giocherò mai E poi ti sei appiccicato anche tu Uh Questo è un messaggio vostro Ciò che cerchi deve essere vicino O forse Un messaggio Di 3 La forgiatura 3 Questa Buona Guarda che spacchi O forse degli sviluppatori No questi qui sono i vostri messaggi In teoria Guarda qua Gioca in interrottamento da 3 giorni Eh lo so Io non posso giocare in interrottamente Quando gioco fuori live Rifaccio le stesse cose che faccio in live Vi piango Oh e fammi prendere Affangulo Con quale rischio li devo prendere Sti oggetti Un quadro Eh questo era da Un altro di quei quadri da prendere Eccomi lì Dove sollo Va 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 Tutto ricongiunge il ricombacio Questo nuovo Darksasi Che c'è qua Uno strello strello pipistrello Come ho fatto a non prenderlo Perdonami E muori Foglia capillare Ma sono Fortissime o cosa Ste foglie capillari Perché Ma cosa servono Che sono così Messe in culate Ti favorisce la circolazione Garantendo un effetto Revitalizzante Boh Guarda le nostre anime Dove cazzo Sono lì Chi è? Oh pasticcio Pasticcino Ah non riuscite a salire? Classic souls No Merde Io però adesso Dovrei andare lì A prendere le mie anime Senza cadere E poi buttarmi a sinistra Grazie Top tier Gentile Ok E qua ci sono i ratti E sento del luccichio anche Un altro scarrafone Puttana che dolore Che fanno Sti topi Affangulo Tranquilli E ora Qui hanno buttato giù Tutte le statue Di merda Perché questo castello È stato conquistato In teoria Prima era di Godwin Poi è diventato di Godric Ma sei peggio degli altri Sei solo Più facile da colpire Poi sei più carino Hai le manine piccole Hai le manine piccole Fior veleno Eccolo Ha qualcosa di magico Perché è azzurro Richiamo del rancore È una magia Sì Devo capire i vendicativi In braccio nemico Dove cazzo Siamo finiti ragazzi Se qua sotto Mo Come minimo Mi spawna un boss Ce lo so E lo sapevo ragazzi No Ancora tu Ma hai rotto i goglioni Però non è un boss Me ne vado Me ne vado Me ne vado Da Amsterdam Amsterdam Qui c'è una faccia Nel pavimento Pustola Una pustola Una scala Come mi ci salgo Nella scala Allora qua potrebbe essere Già più battibile Chiave della spizza Bistruzza Pippone Vatten a fangulo Vatten a fangulo Uff 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 Pirla Ah ah Pirla Pirla Sei un pirla Guarda lì Quella merda di roba Di faccia Pirla Pirla Sei un pirla Merda Buco del Pirl Quanta scala C'è da fare Però Si può fare Tutta sta scala What a thrill Piripiri Pipiri 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 E qui dove cazzo Ah merda Vabbè mi tippo via E questo posto non mi è utile Ok quindi laggiù c'è lo stronzo Va bene Cosa cazzo abbiamo raccolto poi? Una chiave di pietra? Ci abbiamo anche questo materiale di creazione di pietra che è la carne di pius Va bene a cane L'uomo No aspetta troppo vicino eh Vieni a cane Ti regalo una chille Buonanotte a cane Dormi Mi raccomando eh Allora Mo quanta cazzo di roba ci abbiamo qua Magari è la chiave di Hortank Dobbiamo rompere anche le robe col gigante Tanto mi sa che qua abbiamo praticamente fatto Ma sopra cosa c'era? Com'era? Com'eravamo messi qui sopra? No c'era la parte di sotto qui Andiamo a vedere qua C'è anche un bacino e c'è una grazia Bacino Dormi e sogna a kill Eh sì Hortank 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 Dobbiamo liberare tutto Prima di portarlo Là Allora Ritorniamo qui alla camera del montacarichi Uccidiamo lo stronzo sotto Anche se in realtà lui potrebbe essere comodo Per far piazza pulita Ma facciamo così Che dick Off the cazzo E' che il cane è troppo dick Nel culo Vaffanculo Oh Se avessi un po' di più di Hyper Armors Merda Non si stordisce neanche un po' questo No Allora Adesso lì abbiamo il piccione Ho sperato Mamma mia Arrowman Posso andare a Roma Adesso Perché sono un po' gladiators C'era tutta sta gente di merda Avete rotto il cazzo Avete rotto il cazzo Avete rotto il cazzo Oh Bellissimo l'arciere Porca miseria Ok Guarda dei vicoli Vicoletti Il framerate Che si abbassa Bellissimo Elder Ring Quante pietre Da forgia peisel Dai V'è qua V'è qua E urla Stupecio Che devi venire Rompere l'altro Per favore Vieni Achille L'aureo 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 Vieni 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 bro Oh Grazie Pietra da forgiatura No Aia Sono morto Sono deceduto Adesso Anime Andiamo nell'altro Falò E boss Oppure Ragazzi No Ho paura che il ponte C'è troppa roba Nel ponte Ho paura che nel ponte C'è troppa roba Bella No Aspetta eh Aia Voila Allora Riusciamo ad arrivare a 9000 Ma si Ma tranqui Proprio Bro Proprio Quelle che ci servivano Giusto Cazzo Cazzo Ragazzi È arrivato il momento Eh però la furia di colpi È solo una Cioè peccato che il dual wield È solo un tasto Quindi Quanto fa male rispetto a questo Oh non ci ho preso Perdonami Spera ma gli ho fatto più male Perché sono caduto da più in alto No Gli ho fatto un male bestiale Mentre questo Gli faccio molto più male Pastella Amici ma che possenza però Mamma mia Cioè guardate quanto sono super chad E poi quello lì è più zero Allora Prima di attraversare Quella nebbia d'oro Facciamo questo Quindi Siccome non sono ancora sicuro Di tenere Il martello Come arma Potenzio l'altra Al più 3 E basta Non la potenzio Più di quel che devo potenziare Non c'ho le anime Fammelo usare Cazzo ma è dispendioso Potenziare qua eh No questa mi da 200 Ho sbagliato Ragazzi Andiamo C'è la isolata Staccherei mai qui Adesso Stacchiamo Uh questa si era vista Che lei una C'ha la seconda fase Dove stacca la testa del drago E se la innesta Quante dita hai Troppe dita Mettine qualcuna Da qualche altra parte Invece no No Non può essere il comandante Della mia Aureicità Hai capito Vediamo come cazzo È sta boss fight Perché Uuuuhuhuhu Pippo Pippo La musica Non so Non so perché Non mi ha fatto niente Forse ero proprio Un pelo più lontano Del Ah 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 Bisello No Non puoi dare le manate Anche vigliaco Hai sette mani È Facile Darle manate Con tutte queste mani Aia Maledizione Il vento aureo Caspita Aia Che fai? Proprio l'ultima Dovevo prendere Tra tutte L'ultima Dovevo prendere Non lo fare Dai Intossicalo Intossicalo Lascia stare Il mio cane L'ultima Dovevo prendere Certo Vai cane No Non morire Oh È solo la prima fase È che io sono molto lento Quindi devo colpire Duro È vero C'è Nefeli Lux Che faccio? Provo? E che chissà Come funziona Con l'evocazione Se perdo le quest Quindi mi sa Che la devo evocare Proviamo Vai Io voglio anche Qualche buff E non voglio Quest'evocazione Ma voglio Questa In più Voglio anche Eh ma Questo è tanto Inutile Chissà Che cazzo Può essere Debole Lui Preventa La resistenza Al fuoco Aumenta L'attacco Questo Riprisse Una pv Ma infligge Veleno Ah è vero L'evocazione Uh sì Si può fare L'evocazione Di spirit Forse Multiplayer Intendono Che non puoi Fare il multiplayer Multiplayer online Non puoi fare Con gli spirit Evocati Andiamo Eh ma Ne fe li Occio Uh uh E' morto Anche l'altro Evocazio No signorina Sicuri Però Eh ma Non mi ha Fatto Il repost Purca Merda Questo Quando L'hai Imparato A fare Oh Ho ho Musse Al peperoncino Ci riproviamo Però so Per certo Che c'è una seconda fase Perché nel trailer Si vedeva Il drago Che perdeva la testa E lui che aveva Si vedeva la seconda fase Praticamente Nel trailer Allora Allora Non so se Quello Sono buoni Come Companion Però li evoco Più tardi Magari Non li evoco Subito Come si è Buggata Ah non è proprio Partita la seconda fase Perché mi fa Strano Infatti Che come i primi boss Ti buttano Un boss Con due barre Della vita Molto dick Ottimo Partenzo Cazzo Che quanto In ritardo Rimani in aria Mezz'ora È questa La seconda fase Ok Si era proprio Buggata Si era Era meglio Prima Allora Figata però Che la cazza Inizia Nel gioco Non è uno spoiler Perché io lo sapevo Che si era visto Nel trailer Si era visto Non si è vista Sta scena Ma ci si era immaginata Tra l'altro Tra l'altro C'è un oggetto Mi pare Che parli proprio Del Non so se Sono i demigods Che hanno questo potere Di Richiamare Tutto ciò Che Richiamare tutto ciò Che è nella natura E adesso Sarà un cazzo Di problema Eh no Ha fatto la presa È fighissima Sta roba Non di nuovo Che poi Non posso colpirti La cazzata Che non posso colpirlo Mentre Fa la presa Qualcun altro Però Ma che sprinter Che sei È lentissimo Porca troia No Non è il boss finale È il primo boss Praticamente È il primo boss Di trama Sì Credo sia il boss finale Di questa zona Però Allora Con l'evocazione È fattibilissima Comunque Però I due pippi Li tengo Li tengo Per la seconda fase Ostia Sono entrato Troppo presto Ah no Eccola No Dovevo saltare Di nuovo Affanculo Non so Il tempismo No E non avevo più stamina Eccola Il problema Ti fa passare Veramente la voglia Se è triplicata Nell'ultimo periodo Spero per me Vi staremmo Guardate qualcosina Eeeh Dipende 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 dal mese Diciamo che gennaio E febbraio Non sono particolarmente Generosi Con la pubblicità Il fatto di averla Aumentata un pochino Compensa un po' Diciamo Vediamo Din Vediamo se C'hai ragione Di premuto triangolo Mentre spostavo Il pad Entra in sta cazzo Di nebbia Io ho le gesture Delle grobe Qui veramente Guarda Un'idea veramente Delle palle Solo che è un po' Scomodo Combattere qua In realtà Li butto così Così che nella prima Ecco Però minchia Già morti Eh vabbè No E' un po' No, me l'hai interrotto, vaffanculo Vieni su Aspetta che c'è il vento aureo addosso, fai prendere le ammazzate a lui, bravo L'ultima anche dietro lo stesso la fa, che era diversa da prima come mossa Però è... Non sta facendo la fase 2 se stai lontano dalla statua del drago Eh sì, Luke, infatti adesso li cambio Che questi qui pensavo durassero di più perché costano un botto di mana E che intossicazione non lo so se... Questa qui attacca da distante Però non è detto che Sono questi qui che vengono one shotati sicuro Questo qui è quello che si caga addosso Proviamo i lupi, dai Magari è evoluto, magari per davvero è evoluto È troppo distante dalla cosa Non gli viene in mente di staccarsi il braccio e metterselo nel culo Non andargli subito a rompere il cazzo T'ammazza, t'ammazza Eccolo Tutti forti, tutti morti Tutti morti Tutti andati, dietro, vai Aia Non ci ho preso Uh come gliel'ho interrotta Se la taglia già se lo taglia No, non è quello allora Non è quello Sì ma schiva Suoralella Eh E che ha tutti gli attacchi Guarda come aspetta C'ha tutti gli attacchi in ritardo Che cazzo di Di fastidioso che è Quella era la presa Guarda quanto aspetta Faccio tre ro- Tre rollate faccio Attaccalo veloce Ok Ok Io mi curo Dai Vai Sista Batti il po- Dove vai? Oh Sista Vai Dove vai? Merde nei raggi dorati Dove vai? Mi dà le spalle Perché Perché? Perché mi Runa maggiore di Godric Signorina Dai mi dà le spalle Le rune maggiori che ottieni sconfiggendo gli araldi del frammento Hanno perso il loro potere benefico Tuttavia Puoi reattivarlo presso le torri divine sparse nell'interregno Che è quella che ci si arriva dal Dal coso Dal Come si chiama? Il ponte Quello dove eravamo prima dove pensavamo ci fosse la divinità Tuttavia puoi reattivarlo Leggi le descrizioni di ciascuna runa maggiore Per scoprire quale torre divina visitare Ok È troppo intimorita dall'uomo Però non mi ha Mi ha ignorato Rimembranza Dell'intestino Purtroppo quella ragazza Nonostante mi abbia aiutata Io abbia aiutato lei Mi hanno Mi ha ignorato Maledizione Devo ritrovare la mia lucentezza Per essere all'altezza Altro che cacchio di arena Bellissimo però Bellissima fight Anche da solo non è impossibile I fiori sono proprio d'oro sono Ma dimmi che c'è dell'esploro Qua No Eh ma senza seconda fase Cioè non credo sia Eh chissà Boh Se rimane integra o no Eccoci E siamo arrivati qua Dove abbiamo iniziato la live oggi ragazzi Praticamente Però chissà Se ora E qui non si possono usare Non si possono usare Le Le smartellate Non si possono usare le armi In teoria L'arena Non penso Ci sia niente Da esplorare Allora Inventario Io voglio sapere Cos'è l'oggetto Che abbiamo Che ci ha dato Il secondo oggetto È vero che ho comprato La cosa col pene Devo vedere anche le nuove robe lì Runa maggiore di Godric Priva di benedizione Cerca la torre divina di Sepolcride Che si erge oltre il grande ponte Collegato al castello Gran Tempesta Ok sì Quello lì Ma l'altra roba che ci ha dato Scusa Scusate L'altra roba che ci ha dato Cos'era Non è roba che posso craftare Giustamente È rinembarazzo dell'innestato Ma cos'è Cioè dove la trovo più che cos'è Ah eccola Scolpita nell'albero madre Il potere che racchiude Può essere sbloccato dalla leggidita La leggidita è quella All'inizio del ponte Il potere che racchiude può essere sbloccato In alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune Ah ok sarebbero le anime Per affrancarsi la sua debolezza Per affrancarsi la sua debolezza si abbandonò alla grottesca pratica degli innesti Un giorno torneremo insieme a casa nostra immerse nei reggi dorati Queste sono le ultime parole che ha detto poi Allora facciamo così Prima di chiudere Andiamo Dalla tizia qui a colle salvetti Chi arena Luke No la leggidita Ma no Lì nell'arena del boss Non è sponato nessuno E' scomparsa lei Seme d'orzo Adesso ci riandiamo Luke Se mi dici che mi son perso un NPC Dovrò ritornarci Eh Prospetta eh Prima fammi andare dalla leggidita Se è sempre lì dove l'abbiamo vista Prima Che smartellata sotto al mento Che gli è arrivata quello stronzo Ok era l'inizio qui del ponte No 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 non è una Lei mi vuole leggere le dita Ma non è una leggidita Ecco c'è uno che Calpesta il mosto Calpesta l'uva E quello all'inizio Ma è E Godric Quello lì per terra È ritornato Alla forma originale Senza arti Senza niente Ha perso tutti gli innesti Oh Come cazzo ridi Signore Non mi ridere così Che mi fai ridere a me E fai quello che ti fa Cosa vuoi fare Ma tipo 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 Cosa vuoi fare Non so abbiamo 15 mila anni È questo posto che non mi torna Per quale motivo non dovrei Cioè è come nella tavola rotonda Che non si possono C'è il divieto di usare le armi Qui sotto c'è il fantasma Di Serpines E la signorina Vestita di rosso Dove cazzo è andata Tra l'altro qui la grazia Non mi dice più di andare su Mi dice di andare Qua nel cimitero Forse Questo è l'unico castello Zona con mura Che hai fatto Allora Ho fatto il Colosseo Questo qui Ma non ci sono entrato Di roba castellosa A parte le varie rovine Ovunque Non ho passato Nessun ponte Questi qua Non ho fatto niente Oltre queste cose Qui oltre Non ci siamo andati Quindi neanche sta zona qui Che in teoria È la zona iniziale Siamo andati di qua E abbiamo fatto La città della stregoneria Però No Castelli Castelli Proprio no Non ne ho fatti altri Cosa volete fare? Contro i martelli Della Potenzessa Proviamo ad andare un attimo Qua dove ci dice La signora grazia Posso buttare agile? Direi manco per il pazzo Allora era meglio Che scendevo da sotto Un piccolo dolore Devo aumentare anche le Le fiasche Anche se però Mi indica Perché sta zona qua È il cimitero Quello delle meduse Qua sopra C'è il cimitero Quello delle meduse Ma non so Se mi indica lì Anzi Io non voglio più Staccare da sto gioco Come cazzo Dobbiamo fare? Non voglio mai più Staccare Vediamo se troviamo Qualche NPC Qualcosa Qua c'erano Le due meduse Rosse Che Proteggevano Un qualcosa Che l'abbiamo Raccolto Però effettivamente Dal 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 falo Tra virgolette Dove Ci era indicato Non Non si poteva Arrivare qua Quindi proviamo No Chi è che è malgrato Ah merda I teschi Senti Eh Ciccio Senti Eh Ciccio Ok Da questo qui Sì Direbbe per le quattro Invece No adesso stacchiamo Voglio fare Giusto sta roba qua Capire perché Ci manda qui avanti E di qui Però no Credo sia Oh Non saprei Né che indico Che ha la tavola Rotondica Porca bestia You have Ragione Eccola la signorina Vieni qui Roderica Roderica Eh sì Infatti mi chiedevo il tuo nome Va bene Va bene Ma non vuoi sapere Ma non vuoi sapere che Non le devo dare il La pezzetta Quindi Tu Ehi vuole sempre sapere di Giselda Ah lui Devo andare a trovare Questo qui vorrà Altre magie Non gliele offro un cazzo Tanto adesso non faccio le magie Non faccio niente Non mi interessa Qua dietro non era aperto Le due dita Sono effettivamente due dita Questo che cazzo è È la leggi dita Leggi dita signora A me lei è Ena morricona Come si muovono le due dita Oh porca bestia Cioè loro stanno venerando Veramente due dita pelose Giganti Stai delirando Vecchia Poi cosa guardi Che non è gli occhi Non scutti Non scutti Non scutti Ma la grande will Non scutti Ha abbandonato il mondo Nemo la vita Con la vita è una bella giuda dell'Elden Ring Sì Sì Ma non ha neanche le unghie queste dita Tocca due dita E vai Era una persona una volta Io ve lo dico Era una persona C'è un trono dove non si può più sedere Ha pure i buchi E' tutto bucato Ulululululul Che schifo Ce l'ho Sono le dita che uso sul gioco No io ne uso più di due le dita La forza delle dita Sì la forza delle dita fa veramente ridere Grazie Harley King Grazie Allora Ok Le boss Cose Posso fare Lascia Minchia 34 forza 22 destrezza Grazie Koshira Grazie per le sub Belli Il fatto è che Sono D e D Fa cagare fa Questo qui è un lanciafiamme Presumo O è un pugno Pugno È un pugno È un fist Fede 16 Ascia pesante da battaglia Appartenuta a Godric L'innestato Quest'arma dorata Impreziosita Dalle figie di una bestia Che simboleggia La forza di Godfrey Il primo Lord Ancestrale Patriarca Della stirpe aurea Godric Che era il re Insieme Amarica Credo In ginocchio È un ordine Già che io sono il signore Di tutto quanto è d'oro Abilità unica In ginocchio È un ordine Ah Che sarà quello che fa Tremare tutta la terra Esatto C'è il drago Del braccio sinistro Di Godric Simbolo del suo potere Residuo Il braccio Di chi la brandisce Assumerà l'aspetto Di un drago Con zanne affilate Che emergono dal pugno Non può essere brandita A due mani Abilità unica Siate i miei testimoni È una canzone di caparezza Questa C'è anche le braccine C'è C'è un fuggibile Afflato vitale Tenendo l'alta Per sputtare fiamme Nell'area Davanti all'esecutore Ok Boh Non ci interessa Quindi Ciao Grazie Giureps Sempre Allora 31 di forza Direi che Ci fermiamo Direi di portare su Non lo so se portare su Un pochino di destrezza Porca miseria Vita Direi per adesso Basta La tempra Portarla a 20 Non sarebbe male E che la destrezza Potrebbe essere utile Con Con altre Si Calcired È già stato detto Portarla un pochino su Credo possa essere utile Per delle armi Dai Sta già diventando Faticoso Livellare Tra l'altro Alter a vestiario Ah Semplice modificato E cosa fa? Ah Gli toglie il mantello E lo rende più leggero Lo alleggerisce Abbassando un pochino Le difese Ma lo alleggerisce Fighissima sta roba Che si modificano Proprio esteticamente Porca miseria No no Figurati Figurati Senare di guerra In questo martellone Pestone tempesta Eh no Ci devo mettere per forza questa Però c'è quality Che me lo fa diventare C e C Minchia Che è quello nuovo Allora 43 61 Beh sì Meglio così Questo fa cacare Invece Vai Io direi Io direi Fa vedere Se posso parlare Con il signore Merdala E poi stacchiamo Questo manco ci provo Eh non mi parla neanche Hai visto Signor Orfres Grazie E lo sapevo Grazie Sì 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 E perché non me l'avete detto prima No forse me l'hanno detto Come Renala Ma Renala Era la streghetta che ci ha dato le robe Ma Renala è la signorina che è La streghetta col cappello con la faccia doppia Che ci ha dato le invocazioni Non è una semidea No infatti lei è una discendente di Marika Queste qui sono veramente robe scritte da Da coso eh Da Il trono di spade Autor Ho anche un oggetto da dare a Renala No non è da dare a Renala L'oggetto che ho Te dici la Te dici Questa Ah no Questo è da dare A lei Questo è da dare a lei Esatto George Marlin Qui abbiamo Fabbro Qui abbiamo la signorina Che anche lei è una Di quelle della cazza in iniziale Hai visto? Duplica Se ne vendi Riguardo Roderica La funciola che hai condotto qui Allo scoramento No scora quindi Eh oh capita eh Ne servono due Let's due Let's due Però ce ne servono Tac e tac Comunque quello Che avevamo prima È più forte Il martello Sono entrambi potenziati Alla stessa maniera Ma Rimane più forte Quello da guerra pesante Che quello di pietra Però Non so se potenziarli Almeno uno Ne servono sei adesso Va bene Ragazzi È stato incredibile Io veramente vi ringrazio Di avermi seguito Di non avermi abbandonato A metà strada Spero che I prossimi giorni Siate sempre qui Volenterosi come oggi A seguire le avventure Di Signorina Non mi stia così vicina Sono pericoloso Potrei Fecondarla Solo guardandola Le avventure di Achille Col doppio martello Achille Laureo Quindi amici Grazie a tutti Per le sub Noi ci rivediamo Stasera Con FIFA Domani mattina Invece si prosegue Ma non giocherai Fino a domani mattina O stasera continui Per i fattitoi No Non lo giocherò Fino a domani mattina Al massimo Vado a riesplorare un pochino Il castello Per vedere se mi son perso qualcosa In caso me lo segno Nel mio Aquino Se mi perdo qualcosa Così ve lo posso dire Domani Però tipo Il ponte Lì lo facciamo domani Lo facciamo E domani iniziamo a esplorare Andiamo su da Raya Lucaria Secondo me Ma vedremo Dai Amici A stasera Ciao belli Aspetta C'è qualcuno Da raidare Che a quest'ora Non sono abituato C'è la Roby C'è Tarlo Che parla di una riunione Di condominio C'è la Yookala Col Bubedi Sono indeciso Sono Andiamo dalla Roby Che Non abbiamo mai occasione Di raidarla Tanto sei giorni Abbiamo occasione Di raidare un po' Chi ci pare Tanto sta giocando Elder Ring pure lei Andate E me la salutate Con la punta dei piedi Ciao belli A stasera Grazie mille